11, 14, 15 15, 15, 15, 15 Buon appetito! 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 Può cominciare la seconda giornata del torneo Memorial Sebastiani, giunto alla dodicesima edizione Finale, settimo ottavo posto, vedrà confrontarsi la Lazio Rugby contro la Polisportiva Rapina Rugby Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo voluto iniziare, vogliamo iniziare anche oggi questa diretta del dodicesimo Memorial intitolato alla memoria appunto di Lorenzo Sebastiani, giovane pilone dell'Aquila Rugby Scomparso tragicamente il 6 aprile 2009 durante il sisma dell'Aquila con le sue immagini più belle, con il ricordo migliore che abbiamo di lui, che è quello del campo E dalle immagini di Lorenzo sul campo da gioco passiamo alle immagini attuali dal campo di Centicolella in L'Aquila per la prima finalina di questo dodicesimo Memorial Lorenzo Sebastiani Tra l'Aquila Polisportiva, l'Aquila Rugby e SS Lazio Rugby Antonio Colella ci accompagnerà in questo prima partita, prima finale del Memorial Giocheremo Antonio su due tempi da 20 minuti, a differenza di ieri tempo unico, probabilmente ci aspettiamo qualche adattamento strategico, aumenteranno le distanze tra squadre più evolute e squadre meno evolute E probabilmente forse vedremo un po' più di strategia rispetto a ieri, che ne pensi? Ma sicuramente, come hai detto tu, è giusto, vedremo tranquillamente anche le squadre che sono più alleate rispetto alle altre Anche alla luce delle fatiche di ieri dove si è giocato tutto per tutto, vediamo intanto entrare in campo la Polisportiva L'Aquila Rugby che affronterà la Lazio per questa prima finalina In palio il settimo, ottavo posto del torneo Polisportiva L'Aquila Rugby e Lazio entrano in campo agli ordini del signor Valerio Grillo per la seconda giornata del Memorial Sebastiani Il dodicesimo Memorial Sebastiani Pronti a cominciare quindi i ragazzi in campo Ieri l'Aquila ha affrontato Livorno, Fiamme Oro e Colorno Zero punti in classifica, ma una prestazione che ha dato spunti interessanti agli allenatori di Nero Verdi sicuramente Lazio invece se l'è vista con il fortissimo Rovigo, con Real Be Experience e con Capitolina Pronti partiti, palla recuperata subito dai bianco-azzurri che si riorganizzano per rilanciare il gioco in penetrazione Vediamo se ora riusciranno cercando di liberare la loro metà campo e di spostarsi immediatamente nel territorio Nero Verde Si gioca da subito e subito un primo buco dei tre quarti laziali ben recuperato dall'apertura Nero Verde E uso il piede sul box, ben schierati i giocatori Nero Verde ma purtroppo un passaggio in avanti Si torna su un vantaggio concesso dal signor Grillo Poco fuori dai 22 metri laziali Antonio oggi è anche molto caldo, ieri temperature fresche, a limite fredde, poi è tornato un po' di sole Oggi invece è uno splendido sole per il torneo Sebastiano e speriamo che ci accompagni tutto il giorno Si sicuramente farà più caldo di ieri quindi verrà fuori ancora di più il lavoro sulla preparazione dei ragazzi al gioco Comunque l'aria è fresca quindi è bello giocare sicuramente Prima tuscia e primo lancio per il giovane italianatore laziale Palla recuperata in qualche modo ma senza molta qualità nel lancio di gioco dalla Lazio E poi un passaggio in avanti, regalo, un'interessante piattaforma d'attacco per la mischia Nero Verde Come abbiamo visto ieri da Nero Verdi buona la pressione che i ragazzi portano che è proprio attitudine Due mete ieri proprio derivate dalla buona pressione portata dai ragazzi di Nero Verdi Ha solamente una pressione a volte però troppo individuale quindi è una pressione organizzata come in linea Quindi potrebbe in una situazione di non recupero del pallone lasciare degli spazi larghi da poter attaccare Vediamo questa prima mischia, buono l'ingaggio delle prime linee Buona spinta della Lazio ma riesce a portare comodamente tra le mani del mediano di mischia la palla La polisportiva della guerra e qui attacca e percuote con il primo centro che va a contatto Buono l'avanzamento, il placatore non rilascia e primo calcio di pulsione anche piazzabile dalla polisportiva della guerra e qui vediamo cosa decideranno di fare i ragazzi Si gioca, atteggiamento iper positivo come ieri E' bello, è un torneo di preparazione, è un torneo nelle fasi iniziali di questo campionato, è giusto non fare troppa strategia Entrano per la prima volta i Nero Verdi nei 22 laziali Provano a muovere la palla, riescono a portarla a largo, ancora palla giocata all'interno Ancora una racca e palla in possesso mantenuto stabilmente all'interno di 22 metri laziali Ancora qualche piccolo errore di handling Due squadre che subiscono entrambe comunque la pressione Anche in questo caso un errore dovuto alla pressione della Lazio sul ricevitore della palla Assolutamente, sulla pressione così forte probabilmente dovrebbe giocare un pochettino più profondi per avere la possibilità di poter gestire meglio la difesa E vediamo se riescono a organizzarsi su questo E ancora un'altra mischia, già vediamo i ritmi partita leggermente variati Già da ieri Conquista facile per la Lazio ma ancora trasmissione non perfetta Si riesce comunque ad andare a largo e per la seconda volta il centro laziale buca di nuovo profondamente la difesa nero-verde Recuperato il giocatore laziale sulla linea naturale Buono il recupero, le mani in rack dei nero-verdi Ma c'è un passaggio in avanti proprio sul punto d'incontro che riconsegna l'inserimento della palla al Lazio Buono il placcaggio, buono il recupero, i giocatori abruzzesi sfortunati che al punto d'incontro gli è sfuggita la palla che stavano recuperando Sono situazioni che succedono purtroppo Male sulla prima salita della linea difensiva Un buon recupero da parte delle terze linee che addirittura venivano dalla mischia da molto lontano Introduzione ancora bianco-azzurra Buona pressione nero-verde in mischia e pressione sul mediano laziale E questa volta il passaggio in avanti favorisce la squadra nero-verde Già la quarta mischia in questi primi cinque minuti Segna insomma della voglia di fare e anche qualche errore di troppo Che andrà sicuramente La frenesia di fare sicuramente La frenesia di fare però benvegna Per carità è il momento per fare queste cose Buona conquista della Polisportiva L'Aquila che va ancora ad attaccare il primo centro Ha ora spazio per provare a fare la differenza a largo Buon attacco all'altezza, la trasmissione dell'ovale Per la palla arriva l'ala che fugge via la difesa laziale E va a siglare la prima meta dell'incontro in mezzo ai pali laziali Complimenti, buona la prima penetrazione Ma soprattutto la capacità di riutilizzare del centro nero-verde E la trasformazione in media a largo L'attacco all'altezza della linea Antonio, bella meta Sicuramente la forza della prima penetrazione Che richiama due o tre difensori Bravi a tirar fuori il pallone velocemente E a trovare un soprannumero a largo Benissimo E complimenti allora Polisportiva L'Aquila Rugby Per questa prima segnatura della seconda giornata Del Memorial Lorenzo Sebastiani 5 a 0 con una facile trasformazione Per i piedi dell'apertura aquilana 7 a 0 il risultato iniziale Al settimo minuto di gioco Il punteggio viene segnato per 7 a 0 Per la Polisportiva Grazie a tutti Calcio d'invio della Lazio Galvanizzata dalla meta Prova a ripartire subito da Polisportiva L'Aquila Rugby Buon placcaggio dei tre quarti naziali E una tush ancora per loro Per provare a impensierire la linea di difesa nero-verde Vediamo al punto l'arbitro Grillo Entrambe gli schienamenti Cosa che abbiamo visto Gli arbitri dovranno fare fino a quando saranno anziani Anche ieri in Sudafrica e Irlanda Era un continuo tentativo di invadere il corridoio avversario Lancio del tallonatore Ancora una volta non si capisce con il blocco di salto E favorisce il recupero della palla post-portivale qui a Rugby Chiamata la molle dall'arbitro Grillo E infatti chiamata la molle E mischia per la Polisportiva Lazio Il portatore aveva il ginocchio a terra E quindi il placatore era obbligato a lasciare L'impressione è che si è chiamata la molle un attimino prima No, no Quando il portatore mette il ginocchio a terra Diventa racche Quindi cambiano le regole della situazione Mischia allora per la Lazio Riparte la terza linea laziale Ma buona la pressione della difesa nero-verde Attenti e puntuali sul punto d'incontro Non concedono spazio vicino al raggruppamento E la Lazio continua ad andare a battere sulla difesa nero-verde Mentre forse converrebbe spostare la palla a largo Ecco Buona trasmissione a largo dei laziali Recuperati sulla linea di Tush Ma riesce a dare un'ottima continuità al sostegno interno Il giocatore Lazio Prepotente contro il racco della Polisportiva E recupera la palla all'altezza dei 22 metri La perde ma c'era un precedente passaggio in avanti della Lazio Si sta alzando il ritmo partita e il livello delle squadre Interessante Antonio Già un solo giorno i ragazzi pronti a mettere la sticella più in su Sì, si era verificato la stessa cosa sulla meta della Polisportiva Un centro che stringe la difesa per avere un soprannumore all'esterno Bravi ragazzi della Polisportiva a chiudere Introduzione ancora della Polisportiva Vedremo se intenderanno liberare al piede per andare a giocare all'altra parte del campo Oggi ricordiamo che non si gioca un unico tempo Ma due tempi da 20 minuti ci sono da gestire anche le energie in campo In una giornata abbastanza calda per il settembre aquilano Introduzione nero verde, buona, stabile la mischia che riesce a portare la palla a largo Calcetto per l'ala ben impostato Ma ala secondo il direttore di gara Grillo che parte in fuorigioco Quindi davanti al calciatore Si torna quindi con un possenso e un calcio di punizione a favore della Lazio All'interno dei 22 metri aquilani Piccolo errore d'esperienza Antonio Bella l'idea, anche buona l'esecuzione Purtroppo partito leggermente in avanti il tre quarti e rovetto Forse è sbagliato il punto dove fare questo tipo di giocata Metti in discussione la situazione se non fai un calcio molto preciso Quindi bene così, diciamo Piccolo problema del ragazzo che è partito prima Ci sta Bella l'idea, bello il tentativo anche, l'approccio Ancora una tuscia ridotta per la Lazio Vediamo se hanno settato o risolto i loro piccoli problemi Due lanci non positivi Terzo lancio, terza tuscia persa purtroppo Per la squadra laziale Un possesso che poteva essere davvero importante C'è anche un vantaggio per un passaggio in avanti della Lazio Conseguito in questo momento Un bel calcio che riporta la Polisportiva a giocare sui dieci metri Laziale, veramente un bel calcio, veramente una liberazione efficace in questa volta Sì, un pacchetto di mischia che ti permette di poter gestire bene questo pallone Lui ha un ottimo piede, quindi bel calcio veramente Simone Berardi Secondo la nostra lista gara a giocare l'apertura Due calci interessanti Uno più fortunato, uno meno Ma insomma, buona per ora la prestazione al piede del giocatore E il lancio sarà per la Polisportiva all'Aquila Rugby Vediamo se riusciranno in una serena conquista Correttamente rettifica noi e i giocatori in campo l'arbitro Grillo Il calcio era stato effettuato di liberazione dalla Polisportiva all'Aquila Rugby E quindi il lancio per la Lazio Che questa volta è riuscita in una conquista Ma ancora pressione sul mediano di mischia E attacca all'altezza la Lazio Per cercare di fare una prima differenza lì davanti E andare oltre la linea del vantaggio Ancora palla pulita per i naziali Che ora si provano a portare la palla a largo Attaccano all'altezza Bugo a profondo terzo Sta facendo danni enormi il giovane tre quarti della Lazio La Polisportiva recupera la palla Ma sempre per frenesia forse di contraattaccare la perde di nuovo Continuano nella loro azione naziale Che sono ora dentro i 22 aquilani Buona scelta è il momento di andare e continuare ad attaccare Per vie dirette Ancora palla per la Lazio Che prova a morire a largo Dove non c'è un reale sovranumero Bisogna però placare E non permettere di rimettere su piede avanzante I giocatori laziali Si torna su un calcio di punizione per fuori gioco della linea aquilana Due squadre che in questa prima fase del primo tempo Sono appena a 13 minuti di gioco In questa prima metà del primo tempo Antonio si stanno confrontando a viso aperto Una partita anche gradevole Sì sì sicuramente Si stanno affrontando Viene fuori qualche errore Ma è piacevole vedere il gioco La voglia di togliere spazio della difesa all'attacco E la stessa cosa Si sono viste diverse situazioni di Palla portata a largo Che ha dato la possibilità veramente di guadagnare tanto tanto spazio E scelta intelligente del rugby Lazio Che chiama una mischia in un punto delicatissimo Due fronti di gioco attaccabili In chiusa terza centro con terza centro il mediano di mischia All'estremo Vediamo probabilmente Mentre altri 4-3 quarti sono schierati potenzialmente All'altro lato Poi scelgono di attaccare in chiusa E con un ottimo passaggio sotto mano Dei tre quarti naziale Vanno a marcare la loro prima meta dell'incontro Ben giocata L'hai detto tu all'inizio Sulla sezione di gioco dove il mediano di mischia rimane sull'introduzione Cerca di prestare Troviamo una sezione di soprannumero sul lato aperto E quindi probabilmente se il mediano fosse rimasto sulla profondità a difendere Avrebbe scelto sicuramente di andare da un lato all'altro rispetto all'attacco che decideva la Lazio Poi alla fine ha risolto il sottomano del tre quarti naziale La differenza è sempre che sul placcaggio, sul contatto riesce a dare continuità al gioco La palla deve restare sempre viva Manca il sostegno dall'interno E' detto il mediano di mischia Ha provato a seguire per Cercare di dare fastidio al numero 8 Sullo gioco Probabilmente era il caso che rimanesse veramente un pochettino più profondo E buona trasformazione per la Lazio Calcio non banale eseguito in maniera perfetta Calcio non banale eseguito in maniera perfetta E quando siamo ormai al sedicesimo minuto di gioco Verso la fine di questo primo tempo Le due squadre sono sul 7 a 7 Partita gradevole e equilibrata Sembrano due squadre rispetto al massimo livello visto ieri Leggermente più in ritardo Però il livello di affrontamento è assolutamente leale e valido La Lazio specialmente ha fatto della pressione del gioco in continuità L'arma con la quale ha battuto la capitola ieri Organizzati L'Aquila però sta dando veramente il meglio di sé Sul punto di vista della voglia di andare a intercettare E rompere le azioni della Lazio Quanto è importante anche fare questo tipo di attività per i ragazzi Che vedono rispetto all'alto livello nazionale Squadre come Rovigo, Capitolina, Fiammerola Ma anche Rugby Experience che l'anno scorso è arrivata alle finali nazionali Si confrontano con loro e vedono che alla fine Con impegno, con costanza e con determinazione Si può arrivare a un risultato Si può arrivare a mettere in difficoltà l'avversario E sono spinti ad alzare sempre più il loro livello Abbiamo visto, si direbbe a occhio nudo i ragazzi eroverdi Che da ieri a oggi davvero l'impressione è stata Che abbiamo già alzato il loro livello di attenzione e di qualità Ma il confronto di un livello superiore è quello che ti permette di analizzare E lavorare per crescere E benvengano queste attività In campionati che veramente ti mettono a disposizione la possibilità di confrontarsi con i più forti livello Oggi vedremo anche quanto conta poi la preparazione, la costanza, l'allenamento Perché in partite due tempi da 20 ci si comincia ad avvicinare Conta meno il fattore battaglia Adesso purtroppo vediamo sfortunata raccolta la terra del Mediano-Aguirano Per fortuna c'era un calcio di punizione Sul punto di incorronto della Lazio E continua a percuotere con i tre quarti la squadra abruzzese Che si prende i 10 metri di vantaggio immediatamente Ben fatto, dicevamo tanto tanto importante Oggi sarà anche capire la tenuta fisica e atletica Se vedremo delle differenze più importanti probabilmente tra le squadre Beh la fatica è una di quelle cose che ti fa cambiare l'atteggiamento Almeno sotto il punto di vista dell'idea Stiamo vedendo due squadre che hanno un'idea di gioco Speriamo che mantengono quest'idea E anche se sai con la fatica probabilmente andrà avanti di più Il discorso individuale che il collettivo Benissimo, intanto la Guia Rugby si riporta All'interno dei 22 metri laziali Per tentare un ultimo assalto in questo primo tempo Lancia in tusso per i neroverdi Che tenteranno probabilmente con una molle Si stacca la seconda linea aquilana Cercando di avanzare Palla recuperata dalla Lazio Ma persa di nuovo Di nuovo per frenzia Dice giustamente Antonio Colella Di tornare ad attaccare Mischia allora per un avanti neroverde La SS Rugby Lazio Vediamo se decideranno al diciannovesimo minuto e cinquanta Di andare negli spogliatoi Oppure se proveranno l'ultimo attacco Ma sicuramente Proveranno, non butteranno la valla fuori Come si fa nell'altissimo livello E' un a diciotto E' qui per giocare Lo hanno dimostrato tutte le squadre In tutte le partite E porta bene a palla a largo La Lazio Che attacca Riportandosi all'altezza dei 10 metri Ma ultimo buon placcaggio Del centro aquilano Che sta facendo vedere buone cose E ragazzi negli spogliatoi Negli spogliatoi Pausa sul campo per una breve pausa Poi si riprenderà il secondo tempo Di questo interessante Affascinante Prima finalina Per il settimo Ottavo posto Il dodicesimo Memorial Lorenzo Sebastiani Antonio Buone cose viste In questo primo tempo Ritmo non elevatissimo Tante fasi di conquista Molte mischie Molte tush Azioni Senza grandissima continuità Però Fondamentalmente Un buon approccio A entrambe le squadre Mischie comunque Giocate Quasi sempre In maniera corretta Con pressione In entrambe le parti Qualche problemino Da rivedere Per entrambe in tush Ma guarda Abbiamo visto poco Di gioco strutturato Quindi Benvenga I ragazzi Stanno cercando di risolvere Il gioco Giocando la situazione Quindi Magari Continuassero così Fino alla fine Qualche individualità Tu che da tecnico Abruzzese Del comitato regionale Che hai colto Tra i ragazzi Principalmente Nella polisportiva Guarda Si è visto Qualche gesto Tecnico Importante Sotto il punto di vista Del placcaggio Buono Qualche Recupero di pallone Sul breakdown Ancora Come ti ho detto prima Tanta tanta fretta Di voler fare Individualmente Qualche cosa Che Forse Collettivamente Porterebbe Dei risultati Diversi Benissimo In attesa Che le squadre Rientri in campo Intanto Si va affollando La tribuna Del campo Della polisportiva L'Aquila Rugby La bellissima giornata Di sole Favorisce L'afflusso Delle persone In questa domenica Aquilana Ricordiamo A tutti Coloro Che ci Seguono Dalla città Che L'associazione Amici Di Lorenzo Che ha organizzato Il torneo Organizza il torneo In memoria Di Lorenzo Sebastiani Ha organizzato Un terzo tempo Open Dalla mattina Fino a notte Inoltrata Con musica E intrattenimento Per tutti coloro Che si avvicinano Al campo E che Tutto quanto Il ricavato Dal torneo Che ha Un numero Importante Di sponsor Che copre le spese Verrà devoluto In beneficenza Tanta tanta La beneficenza Fatta dagli amici Di Lorenzo In questi 12 anni Di torneo Ricordiamo E ricordiamo Davvero Con piacere Che negli anni Sono state Sostenute Associazioni Come L'Aquila della vita Sono stati Forniti Aiuti A I cugini Di Amatrice Che hanno Subito Il dramma Del terremoto Nello specifico Sono state Effettuato le donazioni All'Aquila Per la vita All'associazione Italiana Sclerosi Multipla Dal centro sportivo Di Amatrice Con un consegno Di un pulmine Alla città Al reparto Di pediatria Dell'ospedale Dell'Aquila E quest'anno Per il primo anno Ci saranno Una serie Di borse Di studio Per lo sport Verranno finanziate Borse di studio Per ragazzi Delle scuole medie In situazioni Di Non diciamo Di indigenza Ma di economiche Più precarie In collaborazione Con l'associazione Luca Moro Per poter svolgere Lo sport Qualsiasi sport Loro vogliono fare Per un anno intero E in più Altre borse di studio In collaborazione Con l'università Di studio Dell'Aquila Quindi Nella memoria Di Lorenzo Sebastiani Un'attività Antonio Benemerita E di beneficenza Continua Che gli amici Di Lorenzo Fanno E Bello anche questa cosa Intanto sta iniziando Il secondo tempo Che al di là Della beneficenza Si Si possa Pensare A costruire Un evento Sportivo Che poi Interessa Alla federazione La federazione Rugby E porta qualità Nello sport Ma non è solo Federazione Coinvolgere Anche l'università Che all'Aquila Un'entità importante Penso sia veramente Una cosa molto bella Non ci dimentichiamo Che L'università Per i ragazzi Fa veramente tanto Di questi giorni Lo street science Dove Le migliori Qualità Universitarie Vengono Messe a disposizione Del Dei ragazzi E della Poblazione Quindi Benvengano Veramente Queste Cose Che stanno Facendo i ragazzi Amici di Lorenzo Benissimo E intanto Il gioco è ripartito Primo errore Primo in avanti Si ricomincerà Con una misca Con un'introduzione Laziale Ingaggio Delle prime linee Buona pressione Portata La polisportiva Difficoltà di raccolta Per la terza centro Laziale Che perde La palla Leggermente in avanti Ancora una volta La pressione La fa da padrona E Napoli sportiva La guia Recupera La palla Grazie Grazie Buona ancora Liberazione Al piede Dell'apertura Aguilana Antonio Abbiamo visto le mischie E' interessante Come ancora Come dire La La competenza In mischia chiusa Che sta iniziando Per questi ragazzi Li porta sempre In difficoltà Laddove E tallonano loro Il pallone E' sempre avanzante La mischia Che non tallona Proprio Segnale insomma Di quanto Debbono lavorare L'abbiamo detto ieri E lo rimarchiamo oggi Oggi come oggi La mischia chiusa E' importantissima Per una gestione Anche strategica Del gioco Quindi Penso che siano Delle situazioni Che si debbano lavorare Come la Tush E In queste situazioni Dove stiamo vedendo Anche tanti passaggi In avanti Doputi alla frenesia Dei ragazzi Iniziano a diventare Situazioni molto importanti Bellissima adesso Conquista a due mani Della Lazio Rugby E vediamo infatti Quanto sia stato Efficace Questa conquista La penetrazione profonda Però allontana Il portatore Laziale Interessante Dicevamo Come il campanile Dice Antonio Il campanile Sia sempre pronto Pubblico Della capitale Diciamo Di fazione opposta Che tifa l'Aquila Bellissimo Da sentire Ma fa parte Dello sport E della competizione Se vogliamo Pura è simpatica Anche questo In un ambiente Quello rugby Però è sempre Fuori dal campo Cordiale Assolutamente Sono rimasto Veramente contento Ieri Dell'atteggiamento Di tutte le persone Che erano a guardare Le partite Una correttezza Unica Un tifo Speciale Perché Fatto Con la testa Di lui Senza stare a vedere Troppo Le decisioni Degli arbitri E altre cose Ancora un fallo Per la Lazio Ha tentato Di nuovo Un calcetto Di nuovo Ben portato L'apertura Numero 10 Aquilano Piano piano La polisportiva L'Aquila Rugby Sta recuperando il campo La cosa intanto Interessante Che abbiamo visto Due touch Davvero ben giocate Una dalla Lazio Una dalla polisportiva Portatori Portati Saltatori Portati Molto 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 in alto Conquista Bella pulita E lanci il gioco Poi efficace Vuol dire Che in panchina Si sono parlati E si sono richiamati Con un'attenzione Maggiore Si vede insomma L'intervento Durante la pausa Degli staff tecnici Perché abbiamo visto Davvero due belle Tuscio Non penso sia Frutto di un Lavoro Adesso sulla panchina Ma di un lavoro Fatto negli allenamenti Quindi Bravi ragazzi Che stanno mettendo In gioco Quello che lavorano Durante Ancora Piccoli problemi Di trasmissione Ma davvero La frenesia Di andare A recuperare Il punteggio La frenesia La frenesia Di fare Porta La Lazio a perdere Una palla Dopo che aveva Creato la differenza A largo E l'introduzione Sarà ancora Per l'Aquila Rugby Che si riporta Quindi stabilmente Nella metà Campo Laziale Risalendo il campo In maniera Graduale E costante Ancora Stabile Le prime due Mischie L'Aquila Ancora Va per cuotere Con il suo Primo centro E riesce a dare Continuità Diretta Al gioco E a penetrare In maniera profonda Non bisogna Allontanarsi Dai sostegni Possesso Mantenuto Si gioca ancora Troppo Dietro la linea di difesa Forse Ora sia una partenza Il leggero fuorigioco Ma c'era prima Un calcio di punizione Sempre per fuorigioco Della linea naziale Visto dal direttore Di cara Grillo E allora Pian pianino Pian pianino Pian pianino Si avvicina Alla 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 linea di meta Laziale La polisportiva Che decide di non mettere in discussione La palla tramite fase di conquista Ma di battere E giocare Ci sembrava Avesse la direttore di cara Assegnato un vantaggio A La Guiara Che non era così Il vantaggio c'è ora per la Lazio Che comunque Invece porta La palla a largo Cerca di dare Continuità Diretta Ha mantenuto il possesso Già riorganizzati fuori Quattro giochi Quattro avanti naziali Per lì lanciare Il gioco Faticano leggermente Adesso a rientrare I neroverdi E c'è la possibilità Davvero Di portare a largo La palla Per la Lazio E continua invece A penetrare In maniera stretta Palla giocata all'interno E ancora avanzamento Della Lazio Ma sempre qualche errore di troppo Si torna comunque Su vantaggio Per fuorigioco di linea Dei neroverdi E calcio di punizione Per la Lazio Vedremo se anche loro Decideranno di alzare il ritmo Alzare un attimino Il livello di gioco No Decidono di andare per i pali Si gioca Finalina Settimo Ottavo posto Giusto così Antonio Scelta tecnica Scelta tecnica Diciamo così Dai Benissimo E quando siamo al settimo minuto E trenta di gioco Prova la via dei pali A Lazio Per portarsi In vantaggio Ci ricordo Antonio Lella Polisportiva Aveva avuto stessa occasione In mezzo ai pali Ha deciso di Chiudere la partita In maniera più sostanziale Cioè di rimanere ai ventidue E cercare di La marcatura grande Invece di segnare i tre punti Differenza della Lazio Che invece va per Il raccolto Più immediato E si porta sul 10 a 0 In vantaggio Non sono Non sono Antonio Scelte fondamentali In questo momento In questo torneo L'abbiamo detto più volte Che deve servire A capire Dove si sta A che livello si sta Per capire poi Che campionato Si vuole fare Guarda Sono con te Su quello che hai detto Però adesso Inizieremo a vedere Vedrai La differenza che c'è Di tenuta atletica La guida rugby Prende Un calcio Perché i ragazzi Tornano indietro Lentamente A causa proprio di questo Speriamo Cambino atteggiamento Come hanno fatto Fino adesso Sugli 80 minuti Comincia a diventare interessante Abbiamo visto anche A livello internazionale Proprio La cilindrata Dei giocatori E le capacità Fisiche E atletiche E Continua ad aumentare Il ritmo La Lazio Ma ancora Qualche errore Di handling Che dà la possibilità All'Agui Di recuperare la palla E di trasmettere A largo E di portare la palla Fino all'ala Slalom Dei giovani Neroverdi Che si gira Dal lato sbagliato E buona pressione Laziale Contro Rack Ma cadono poi I Laziali Al di qua Del punto d'incontro E Un intervento Che era buono E positivo All'inizio Porta a un calcio Di punizione Ancora in Tush La polisportiva L'Agui A rugby La scelta È quella di Andare a Tentare di Marcare E Tush All'altezza Di 5 metri Per col Lancio Neroverde Possono Veramente Al decimo minuto Del secondo tempo Dare un Segnale forte Adesso alla partita Il giovane Aquilano Ti ho detto Stanno seguendo Delle scelte di gioco E probabilmente Hanno deciso Prima della partita Vediamo come va a finire Lancio quindi Per Tommaso Russo E palla presa A due mani Dall'Aquila Buona trasmissione 9-10 Tre quarti Un pochettino fermi Prova Il centro aquilano Ancora a fare la differenza Scarica la palla Sull'estremo Che si inserisce Palla che arriva Fino all'ala C'è ancora un Passaggio in avanti Bloccare azione Ma ancora un Fuorigioco Ci sembra segnalato Dall'arbitro Grillo Vediamo qual sarà La decisione Passaggio in avanti Della Lazio E mischia Mischia con una piattaforma Ancora interessantissima Per la polisportiva L'Aquila Rugby Per la polisportiva E BRI introduzione nero verde quando siamo all'undicesimo minuto di gioco testa alta per il numero 8 Guirano che pensa forse di ripartire con la palla ci riesce ancora un errore nella raccolta sotto pressione e passaggio in avanti del numero 8 Guirano nella raccolta della palla non bisogna protestare altrimenti si rischia di uscire con un calcio contrario mischia per la Lazio Rugby numero 8 Guirano e gioca con il 12 per non trarre i nini è un centro puro utilizzato quest'oggi a terza linea ieri l'abbiamo visto giocare a centro parlavamo di competenze specifiche qui lui ha fatto un errore che magari una terza centro pura non lo farebbe ma è sempre la pressione la frenesia di fare la serenità di avere la competenza appunto come dicevi tu nella raccolta e muove da subito la palla la Lazio dai propri 22 metri grandi gambe per l'estremo Laziale che lotta mantiene la palla viva riesce a mettere a disposizione ma ancora un calcio di punizione per gioco a terra batte velocemente la polisportiva la Guia Rugby fa 10 metri regolarmente ancora pressione dei laziali sul punto di incontro ma di nuovo un errore è un passaggio in avanti si ripartirà ancora con una mischia per la Guia Rugby che sta ben tenendo il campo in questo secondo tempo Antonio è stabilmente a livello strategico nel metà campo laziale ora a 7 minuti alla fine bisogna far punti altrimenti rischi di come dire avere possesso avere territorio e non vincere la partita che non che non va bene beh la Lazio come abbiamo detto in difesa è abbastanza organizzata trovare il pertugio è difficile specialmente in una situazione dove ho detto la fatica magari può annebbiare quelle che possono essere lì strategie Reset della mischia un po' di stanchezza anche tra i ragazzi di prima linea corre intanto il tempo introduzione ancora Aquilana abbiamo visto che di nuovo ci hanno sentito Antonio alla telecrona che c'è stata l'alternanza tra i due centri centri e terza centro terza centro il numero 14 Aquilano che Valerio Curtacci che aveva fatto un'ottima partita finora e che si cambia con il suo omologo è una buona ripartenza inchiusa subito efficace diciamo decisione strategica subito efficace ripartenza velocissima rapida e meta marcata in mezzo ai pali a suggellare probabilmente questo incontro Valerio è un ragazzo molto consistente buona la scelta probabilmente venuta dalla panchina della sostituzione lui sull'uno contro uno è veramente molto forte quindi prende quasi sempre la linea del vantaggio la prima meta dell'Aquila è venuta fuori anche quella da una reiterazione profonda sua che ha stretto la difesa ha veramente messo intorno a lui tre difensori per giocare lo spazio benissimo trasformazione facile allora per Simone Berardi vediamo se riuscirà ad arrotondare il punteggio quindi alla fine è stata valida la scelta di non calciare e di rimanere lì nei 22 sono stati ben premiati i ragazzi dell'Aquila Rugby 14 a 10 il risultato in questo momento quando mancano 5 minuti alla fine nella partita questi punti sicuramente metterà un pochettino di birra come si dice nelle gambe dei ragazzi Aguilani sarà difficile adesso andare a segnare la Lazio mi correggo 14 a 10 calcio d'invio per la Lazio alto alto possibilità di portare pressione sui neroverdi così è ma riescono bene gli aquilani a mantenere il possesso della palla e a liberare al piede palla che batte appena fuori dalla linea è ancora ottimo con pochissimo angolo il guadagno territoriale con il calcio dell'apertura neroverde lui è un ragazzo molto buono sul ruizzo del piede è uno che si allena tanto su questo tipo di situazione il lancio sarà per le mani laziali lancio sull'ultimo uomo palla lunga ma un avanti a Guirano aiuta la Lazio nella conquista buca profondamente il centro laziale riesce a scaricare la palla tenta di scaricare la palla sull'estremo biancazzurro ma si intromette l'estremo neroverde che riporta alla riconquista i suoi compagni ancora pressione durissimi placcaggi della Lazio per cercare di impedire la liberazione ai ragazzi neroverdi che sono costretti a fare fallo a terra proveranno a giocare velocemente non ci sono i dieci metri probabilmente tenuti dalla possibilità di sportiva la guia rugby così è e adesso vedremo quale sarà la scelta della Lazio se giocare direttamente o tentare con una con una mischia Antonio ma sicuramente giocheranno quindi il tempo è poco avrei puttato per una mischia pronti via allora attacco della Lazio che si porta un metro dalla linea di meta decisa a riaprire le sorti di questo incontro attenzione sul gioco a terra la palla è pulita e disponibile per la Lazio che difficilmente deciderà in questo momento di allargarla raccoglie vai e meta in mezzo ai pali risposta immediata dei bianco-azzurri Antonio bravi gestita bene senza fretta è un'organizzazione di ripartenza sempre assistita quindi molto bene anche qui la meta in mezzo ai pali sarà facile la trasformazione 15 a 14 si portano di misura avanti di bianco-azzurri quando manca poco più di un minuto di gioco si prenderà il suo tempo per la trasformazione giustamente il numero 12 Laziale Fabio Tomassetti abbiamo visto anche lui davvero un buon piede un bel piede che alla fine dei conti abbiamo visto anche ieri in Sudafrica Irlanda conta sempre tanto specialmente nell'alto livello dove è sempre più difficile segnare la meta il piede è fondamentale mi dispiace per l'Aquila una brutta situazione dopo un pallone recuperato gestito non bene ha dato la possibilità alla Lazio di recuperare ulteriormente tramite un calcio di punizione e si porta avanti la Lazio sul 17 a 14 dicevamo il piede il calcio d'invio di Stefano Alfonsi il numero 15 della Lazio molto molto interessante il calcio è stato in alto quasi 4 secondi insomma i riconaggiali sono riusciti a portare pressione immediata nei 22 Aquilani è sempre tanto importante la competenza al piede in questo sport assolutamente si gioca questo è uno sport si gioca mani e piedi si dice l'utilizzo del piede oramai è diventato fondamentale lo vediamo nell'alto livello quelli che possono essere sia calci di spostamento oppure dei kick pass per eliminare la pressione della difesa ma tanto si lavora anche sulla togliere la pressione degli avversari sulle situazioni di campo difficile e giustamente tenta la polisportiva e lo fa bene con efficacia un calcio di invio corto per recuperare la palla e ci riescono bravi, intelligenti ed efficaci i ragazzi dell'Aquila hanno quindi la possibilità di portare un ultimo assalto alla difesa bianco-azzurra portatore con poco sostegno un po' stanchi sicuramente buono anche i placcaggi della Lazio che deve soltanto avere in questo momento pazienza pazienza che non hanno purtroppo i nero-verdi portano quindi a recuperare la palla i giocatori laziali che sicuramente andranno adesso in touch per la fine dell'incontro e si aggiudicano questo settimo posto i giocatori della Lazio alla fine di una partita combattutissima per 17 a 14 contro la polisportiva l'Aquila Rugby complimenti a tutti i ragazzi in campo Antonio partita che già ci fa vedere quello che oggi ci aspetta sì diciamo se l'inizio è questo penso che avremo un crescendo di partite un crescendo di divertimento da parte di tutte le altre squadre benissimo e quindi 17 a 14 il risultato in favore della SS Lazio Rugby noi andiamo qualche minuto in pausa e a mezzogiorno ci rivedere ci ricollegheremo per il quinto è il suo posto per vedere la partita tra Rugby Experience l'Aquila e Fiamme Oro Rugby per la mia non so sì non non è non l'Aquila è è giù di Grazie. 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 Grazie pure a te Nicola, Amedeo scusa, per tutto quello che stai facendo in questi giorni. Grazie a voi, è un piacere essere qui a dare una mano. La bellezza e la bontà è contagiosa e fa meno rumore della cattiveria e delle cose scure, però è contagiosa e è meravigliosa. Quindi grazie a voi per quello che fate, è un piacere essere venuto a regalare due giorni alla vostra associazione nella memoria di Lorenzo. È un piacere, io ci sono e ci sarò sempre per quel poco che posso. Grazie Giovanni, mi ha fatto davvero piacere. Ci vediamo tra un po' perché stanno per entrare in campo Fiamme Oro Rugby e Rugby Experience L'Aquila per la finale quinto e sesto posto. Rugby Experience ha steccato di pochissimo l'accesso al primo e secondo posto ieri in una combattutissima partita con Rugby Rovigo che ha visto prevalere 6 a 0 i giovani rosso-blu, squadra che ha davvero ben impressionato per competenza e organizzazione. Sfida quindi conosciutissima tra squadre che si affrontano, non dico settimanalmente quasi, l'ultimo allenamento congiunto tra Rugby Experience L'Aquila all'interno di un percorso comune di crescita tra le varie società. C'è stato appena due settimane fa. Ecco quindi stando per entrare in campo i giovani aquilani in maglia bianco-rossa, Rugby Experience School ricordiamo la realtà nuova, relativamente nuova dell'Aquila, nata subito dopo il sisma, che si occupa di formazione dei giocatori a livello giovanile. Ha trovato da qualche anno un interessante partnership di continuità con la neonata Rugby L'Aquila che milita adesso nel campionato italiano di serie B. Ecco che i ragazzi entrano in campo. La Rugby Experience e le piamme Euro Rugby si affronteranno per la finale tra il quinto e il sesto posto del dodicesimo Memorial a Lorenzo Sebastiani. Arbitra l'incontro il signor Luca Giurina. Agli ordini del signor Luca Giurina iniziano quindi a scendere in campo le due squadre. Calcio d'invio per Rugby Experience L'Aquila che prova a portare immediatamente pressione all'altezza dei 22 laziali. Muovono dalla propria linea dei 22 le fiamme Euro la palla ma non riescono ad uscire appunto da la loro porzione di campo. Ancora in difesa, ancora un punto di incontro vicino, forse ora proveranno a liberare magari anche al piede. No, tentano di esplorare in tutta la larghezza del campo e riescono a fare una prima differenza riportandosi all'altezza dei 10 metri aquilani. Ancora esplorano cercando di portare palla in zona 3, primo punto di incontro in mezzo al campo. Adesso sì, forse hanno creato un piccolo soprannuro. Palla lenta però si è ricostituita la difesa aquilana. E ben va l'apertura laziale in touch. C'era però un vantaggio per un fallo forse di fuorigioco visto dall'arbitro Giurina che torna indietro. Vedremo la sua gestualità. Placcaggio alto, placcaggio oltre la linea del petto e quindi si ripartirà con un calcio di posizione a favore delle fiamme Euro. Antonio vediamo già un atteggiamento e una competenza con le mani diversa immediata. Fiamme Euro attacco zona 3, zona 3, zona 3, zona 3, per cercare spazi in tutti i modi. Una difesa ben piazzata. Utilizzo per piedi di conseguenza. Utilizzo per piedi di conseguenza. Perfetto, ci siamo già detti tutto. Calcio di posizione quindi per le fiamme Euro che andranno in touch. Palla che non esce, ben recuperata proprio sulla linea di touch dagli aquilani che tentano a loro volta immediatamente di attaccare la linea Cremisi. Buona la penetrazione profonda e ancora provano ad attaccare. Gioco spalle per i giovani aquilani e ancora in chiusa per sfruttare tutta la larghezza del campo. Ben schierata anche la difesa romana. Gioca dall'altezza, palla persa all'interno e recuperata però dalle fiamme Euro che tentano ora a loro volta di colpire in profondità la difesa romana. chiamata la profondità dai giocatori aquilani. Effettivamente aveva provato a calciare, la fiamme Euro aveva provato a calciare. Buoni sostegni. Torna forse ancora dietro su un passaggio in avanti da parte delle fiamme Euro. L'arbitro Giurina. Prima di schiagli incontro, Antonio. Ma guarda, se dovessi fare un paragone con la partita precedente la velocità del gioco è veramente molto molto più alta. Quindi sono sicuramente due formazioni abituate a giocare in velocità e da quello che si vede da queste prime fasi con delle idee di gioco veramente importanti. Anche abbastanza simile, diciamo giocatori che si conoscono, si sono allenati insieme appena due settimane fa in una condivisione di percorso continuo anche tra società. È una cosa davvero bella e importante questa. Intanto buona conquista per Rugby Experience. Provano a giocare con un primo centro molto stretto. Ora porteranno sicuramente la palla a largo. Ancora piccoli errori di handling. Ma recupero immediato. Sempre giocare sull'errore. Sempre non demoralizzarsi ma provare a rilanciare la propria azione. Vantaggio per le fiamme Euro conseguito probabilmente secondo l'arbitro Giurina. Giocano sempre molto profonde le fiamme. Ma ecco adesso il loro errore. Passaggio in avanti. Ma torna indietro l'arbitro Giurina. Vediamo cosa ci segnalerà. Primo passaggio in avanti di Rugby Experience. Un lungo lungo vantaggio. Probabilmente era forse questo vantaggio era molto più avanti. Vabbè ma poco male. Mischia quindi per le fiamme Euro Rugby. Introduzione per le fiamme Euro. Terzo centro che si stacca. 8-9. Il 12 pronto a penetrare ma atteso dai tre quarti Aquilani. Buono il punto d'incontro. Veloce. Ora c'è la possibilità di sfruttare il soprannumero a largo. Si chiude la linea dei tre quarti Aquilani. e fermati sulla linea di Touche i giocatori Cremzi. Ritmo già indiavolato. Molto molto bello. Giocano uno spazio strettissimo i giocatori romani. E riescono ancora a fare metri e a portarsi ben oltre i dieci metri. Oltre a metà campo. Lotta disperata su ogni punto d'incontro. Palla portata velocemente a largo. Anche un po' fortunatamente riescono i giocatori delle fiamme Euro poi a sfruttare un soprannumero. Un po' stesi i giocatori delle fiamme a sostegno. Attenzione su punti d'incontro. Bisogna lavorare assolutamente in piedi. Ma bellissima continuità. Siamo forse alla ottava fase di questa lunga, lunga, lunga azione. Giocatore che lavora non correttamente il rack. E calcio di punizione a favore delle fiamme Euro. Vediamo come imposteranno questa cosa. Se per i punti o per una continuità del gioco. Tush, nello spirito diceva giustamente Antonio Colella, di tutte le partite viste finora. Tush interessante all'altezza dei 5 metri con Lancio Cremisi. Difenderanno probabilmente terra gli Aquilani. Si addensa intanto qualche nube all'orizzonte. Abbiamo qui vicino però le previsioni meteo che ci dicono che pioverà. vorrebbe più o meno purtroppo nella giornata piovere. Speriamo che non comporti difficoltà per i giocatori. Buona, ottima la conquista delle fiamme Euro. E ottima la bolla organizzata. Perché un primo tempo avanza, avanza. Si ferma in questo momento ma c'è già un vantaggio decretato all'arbitro Giurina. entrano dentro la linea di meta e marcano la prima meta dell'incontro. Le fiamme Euro al settimo minuto di gioco. E ci dice Stefano Bernardi Meteo che è qui. con noi in console e anche lui collabora alla realizzazione e alla buona uscita del dodicesimo Trofeo Sebastiani. Tutte le professionalità, diverse professionalità della città, ognuno come può, cercano di aiutare in questo momento i 60 volontari dell'Associazione Amici di Lorenzo. E quindi ci dirà che tra qualche ora potrebbe arrivare qualche goccia di pioggia sul campo di Centicolella. Attendiamo intanto la trasformazione del fiamme Euro. E' buono il calcio molto angolato del numero 10, si sembra, del fiamme Euro. che porta quindi il risultato sul 7 a 0. Palla delle fiamme Euro che conduggono all'ottavo minuto con il punteggio di 7 a 0. Recupero dalla palla delle fiamme Euro che i calvanizzati dalla prima meta cercano subito di attaccare i giovani aquilani. In realtà poco il possesso per l'Aquila finora, poche le palle giocabili. Ancora una segnalazione di vantaggio per, probabilmente, placcaggio alto, ma che non ci sembrava tale, a dire il vero, dei Rugby Experience. Buona pressione, placcaggi portati. Cercano di portare la palla fino all'ala, le fiamme Euro, ma non avanzando si torna sul calcio di punizione assegnato. Ancora possibilità di ripartire dalla tush per le fiamme Euro, ma ottima la conservazione della palla da parte di Rugby Experience con uno spettacolare gesto atletico dell'atleta aquilano. Buon calcio ancora di Alessio Scaramazza e calcio in tush per fiamme Euro si ripartirà con un lancio aquilano. Siamo intanto al decimo minuto di gioco. Tush ridotta, scelta Rugby Experience, l'Aquila. Salto centrale, conquistata con qualche difficoltà la palla. Si può giocare e ricercare l'avanzamento vicino al raggruppamento per l'Aquila. Avanza, 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 avanza ancora la squadra aquilana. Palla che arriva tra le mani del mediano di mischia. Prova ad esplorare al piede in profondità le fiamme Euro la squadra dell'Aquila. Buona, ottima la pressione portata immediata e c'è un tenuto, molto probabilmente, sì, dei giocatori cremisi. Prova a battere veloce dal ritmo Rugby Experience l'Aquila. Non è così, vediamo quale sarà la scelta. Si gioca velocemente, così come ci ha fatto vedere in tutti i giorni di ieri nella Rugby Experience. Sceglie di giocare velocemente. Palla che esce ancora, mossa a largo a Rex, Rugby Experience. Un passaggio a metà, non si sono capiti due giocatori. Per fortuna dietro riescono a mantenere la palla. È giovane Quilani che poi sfugge alle mani dei ragazzi, dei coach Lorenzetti. porta al recupero della palla le fiamme Euro Rugby, che già sembrano avere steso il braccio, l'arbitro. Ci sembrava un vantaggio. Vediamo adesso. Buon placcaggio, rallentato comunque il lavoro di linea. Sì, era un vantaggio, era stato segnalato dall'arbitro Giurina, probabilmente per un fuorigioco. Antonio, dicevamo, buona azione del Rugby Experience Laguerre, riguadagna campo, buona tuscia, lancio di gioco. Sopra numero importante a largo che non si riesce a sfruttare, nessun taglio di corsa che era necessario in quel momento per andare a marcare in mezzo ai pali e quindi errore di conseguenza. Ah, guarda, c'era una sicurezza talmente netta che non si arriva a nessun tipo di taglio. Bastava impegnare l'ultimo uomo da segnare. Evidentemente lo hanno fatto con un'intensità non troppo alta, con un'attenzione diversa. Dobbbero portare sicuramente i punti all'experience. Vediamo. Tredicesimo minuto di gioco e lancio per le fiamme Euro. Bella tusch, marcata, ma comunque con un lancio perfetto e conquista per le fiamme Euro. alti tre quarti aquilani, quindi riesce a fare strada la squadra Cremisi e subito riescono a fare differenza e a bucare profondamente la difesa bianco-rossa ed andare a marcare la seconda meta dell'incontro in mezzo ai pali. Tanta, troppa leggerezza a largo, placcaggi mancati, peccato. In queste situazioni manca il placcaggio, ti si apre un varco da attaccare veramente ampio. Quindi sono quei gesti tecnici fondamentali che in questo momento stanno mancando all'experience. Ne approfittano le fiamme Euro che riescono a marcare la seconda meta dell'incontro al quattordicesimo minuto di gioco. Aspettiamo quindi la trasformazione dell'estremo delle fiamme Euro Rugby Teodoro Muscatello, preciso al piede finora e non sbaglia infatti neanche questa seconda trasformazione. Quattordici a zero al quindicesimo minuto di gioco. Il quattordicesimo minuto del primo tempo conducono con il punteggio di quattordici a zero. Calcio di invio ancora per Rugby Experience L'Aquila, cerca di portare subito pressione e di riportarsi sotto con il punteggio. Calcio di punizione per una palla mantenuta probabilmente in maniera irregolare in rack dai giocatori delle fiamme Euro. Leggermente ritardi sostegni ma riescono a mantenere la palla giocatore di Rugby Experience. Ancora un errore di handling, un passaggio in avanti. Altra palla regalata all'altezza dei 5 metri alle fiamme Euro. Tanta, troppa frenesia. Tanta fretta e tanta indisciplina dei ragazzi. Hanno preso troppi calci di punizione in queste situazioni. Mischia con introduzione Cremisi. Buona pressione portata in mischia. Liberano al piede le fiamme Euro profondamente. Trovano un punto del campo non controllato da Rugby Experience. sceglie il lato sbagliato per la ripartenza. L'estremo Aquilano consegna una tush con lancio a favore della squadra romana. Lancio per le fiamme Euro. Ultimo blocco conquista a due mani ben portata. Cercano di portare la palla a largo giocando spalle il giocatore di Fiamme Euro. Linea chiusa però da Rugby Experience. Buona la pressione del giocatore Aguilani che porta a riconquistare il pallone. c'è spazio in profondità ben visto dal mediano Aquilano che per pochissimo non imbecca un 50-22. Ma c'era un fuorigioco di linea visto dall'arbitro Giudina. Si torna quindi sul vantaggio per Rugby Experience. tenterà probabilmente la via della tush per risalire il campo ed avere un lancio a favore. Ancora tush ridotta per Rugby Experience. Tre saltatori centrali molto larghi. Vediamo quale blocco sceglieranno per il tallonatore Aquilano. Tush storta purtroppo sul primo blocco. Si ripartirà da una mischia a favore del Fiamme Euro Rugby. Tanta tensione dei ragazzi aquilani probabilmente nel giocare comunque diciamo così a casa in città seppure il loro campo di allenamento è quello di Piazza d'Armi. Altra meravigliosa struttura nata dopo il terremoto. Sempre campo dedicato al rugby in sintetico. Il terzo campo del rugby cittadino dopo quello della polisportiva L'Aquila Rugby. Del Paganica Rugby quest'anno risalito dopo anni in Serie A. Qui vanno i nostri complimenti. è quello di Rugby Experience L'Aquila. E lo stadio Fattori, quarto impianto cittadino in cui gioca la neonata compagine della Rugby L'Aquila. Trasmissione difficile dell'ovale per i giocatori cremisi. E mischia per Rugby Experience che avrà un'ultima base d'attacco in questo primo tempo per cercare di accorciare le distanze. Palla ben conquistata da Rugby Experience. Gioca a spalle, c'è spazio per andare a largo. Palla che arriva a Lala. Ben marcato il giocatore da Aquilani ma vince l'uno contro uno Lala Aquilana e va a marcare la prima meta dell'incontro di marca bianco-rossa. in attesa della trasformazione di Alessio Scaramazza. Meta di Di Nicola per Rugby Experience. Stiamo aspettando la trasformazione dell'estremo Alessio Scaramazza. Speriamo si siano sbloccati i giocatori aquilani. Antonio, prima meta per Rugby Experience. Dicevamo finalmente speriamo si siano sbloccati i ragazzi aquilani. Abbiamo visto tanta tanta voglia di fare. A volte la frenesia ti porta a commettere errori. La partita comunque è anche bella, anche questa. Con un ritmo molto molto... L'abbiamo visto dall'inizio. La velocità sicuramente si potrebbero rispetto alle altre. Sì, sono contento per Experience. Probabilmente vedremo un gioco, un atteggiamento diverso adesso. E' bellissima anche la trasformazione di Alessio Scaramazza che dall'angolo destro... Che dall'angolo destro indovina un perfetto calcio di trasformazione. Avanti le fiamme oro 14 a 7. E ora qualche minuto di pausa. E ci ha raggiunto intanto il vice presidente della federazione italiana rugby, Giorgio Morelli, già presidente della federazione rugby Abruzzo, ma già importante giocatore dell'Aguia rugby negli anni passati. Giorgio, tutti i selezionatori delle giovanili nazionali italiane, abbiamo visto anche il presidente Innocenti, che poi speriamo di avere qui ai nostri microfoni, il vice presidente federale, tutti i massimi rappresentanti delle istituzioni e della dimensione tecnica delle nazionali italiane. Sono oggi all'Aguia a guardare questo interessante torneo Under 18, che è l'abice del movimento giovanile italiano. Sì, l'Under 18 è fondamentale perché è l'ultimo gradino della formazione che serve poi per selezionare i giocatori per l'Under 20 che deve affrontare il torneo delle 6 nazioni. Quindi l'idea della federazione è che tutte le squadre nazionali e dunque anche le squadre che contribuiscono come sorgente a comporre la nazionale siano allineate sulle stesse metodologie di allenamento, di cura dei giocatori, di sviluppo, di formazione fisica, atletica e per certi versi anche tecnica. Quindi è importantissimo che ci sia questa presenza che serve proprio per verificare che si stia lavorando nel verso giusto. Giorgio, smettendo i panni del vicepresidente della federazione, è politicamente scorretta la domanda che ti faccio, però è stato bello in questi due giorni rivedere qui squadre come Rovigo, rivedere sempre Stefano Romagnoli, persone del rugby di tanti anni fa e tutti questi giovani ragazzi. Ti faccio una domanda quindi non a Giorgio Morelli, vicepresidente della federazione, ma a Giorgio Morelli, Aquilano. Quanto è bello rivedere tutta questa gente, questi ragazzi e tutto il rugby e le squadre del tuo tempo del glorioso rugby ovale Aquilana, qui a Centicolella. Ma guarda, chiedo scusa della tosse. E la commozione, quella è anche la commozione. Veniamo stamattina, siamo stati con il sindaco dell'Aquila a presentare un importante progetto per la riqualificazione dello stadio Fattori sull'iniziativa privata, è una cosa importantissima, perché è la base essenziale per riportare il rugby di livello all'Aquila. Grazie mille, grazie ancora per aver fatto questo intervento. A dopo. Benissimo. E ci ha raggiunto intanto l'impostazione all'inizio di questo secondo tempo della partita tra Rugby Experience e Fannoro Under-18. German Fernandez che è responsabile dell'alto livello federale. German, grazie intanto. Speriamo che tu voglia accompagnare questa nostra telecronica con il tuo commento tecnico in questa seconda partita. Due giorni interessantissimi. abbiamo visto alcune delle squadre del massimo livello Under-18 in Italia, protagonisti delle finali del Final Four Under-17 dello scorso anno e protagonisti della finale Under-19 dello scorso anno in questo strano anno in cui si incontrano tre giocatori nati in tre annate. Questo non può far altro che aumentare la qualità di quello che andremo a vedere quest'anno a livello giovanile. Sì, assolutamente. Sinceramente è bellissimo vedere tutti insieme qui. È un piacere non solo per vedere ragazzi, sino anche questo ambiente che si trova qui in questo torneo. È veramente bellissimo. Non me lo aspettavo, mi ha chiamato tantissimo l'attenzione. Non solo l'ambiente, sino anche tutto questo che vediamo qui. È bellissimo. Bene, felici insomma di averti qui con noi, per avere sicuramente anche un commento come tutti quelli che sono arrivati in questi giorni di livello. Sono stati con noi responsabili di centri di formazione, tecnici federali delle varie regioni. Davvero è interessante vedere anche i diversi atteggiamenti delle diverse squadre nel gioco e le squadre venete che vengono volentieri a confrontarsi di nuovo al Sud Italia. Che ci racconta un movimento che si sta omologando per qualità di gioco? Sì, sì. Chiaramente questa è la prova. Perché si vede in queste due prime partite sono quattro squadre che stanno cercando di giocare con tanta capacità per giocare la continuità diretta e con tanta comprensione del gioco. Dopo ovviamente ci troviamo cose che ancora dobbiamo sviluppare tanto nella difesa come nel breakdown soprattutto. Questo si vede chiaramente, però la intenzione del gioco è buonissima. E intanto abbiamo visto una grande percussione di Massimo Molina del centro del Rugby Experience L'Aquila che ha rotto una serie di placcaggi in davvero maniera impressionante e con 50 metri circa percorsi in solitudine ha poi dato, come diceva Hernan, ha trovato continuità diretta nel sostegno che arrivava all'esterno e ha portato alla seconda marcatura del Rugby Experience che quindi si riporta sotto nel punteggio e avvicina ai fiamme oro dopo un primo tempo di marca Cremisi. Dicevamo ieri, tante squadre ma anche un tipo di organizzazione del torneo interessante perché prevede una prima giornata con partite di 20 minuti dove magari c'è davvero poca strategia perché giochiamo tutto, vediamo qualità e una seconda giornata con partite di 40 minuti, 20 più 20 il che significa insomma cominciare già a centellinare forse e magari a ragionare diversamente anche per i tecnici è un bel banco di prova. Assolutamente perché è completo, nel senso che quando noi facciamo la valutazione di un ragazzo lo che vediamo è il suo comportamento diciamo tecnico, tattico e strategico e tante volte è difficile nel centro di formazione vedere la parte strategica di come gestire una partita, come giocare in un campo, nel suo campo o nell'altro questo sarà fondamentale di valutare oggi perché dopo l'esigenza su questa parte strategica è fondamentale e qui si può vedere perfettamente. Benissimo, è chiaro, chiarissimo Hernan Hernandez che ci ha spiegato anche come funziona poi le valutazioni della federazione italiana rugby e dei tecnici che sono preposti all'individuazione del talento e alla costruzione delle squadre nazionali. trasformata intanto la meta da Rugby Experience School riparte immediatamente un calcio d'invio di Fiamme Euro Rugby e riescono a recuperare la palla con un calcio corto ma ancora un po' di difficoltà di trasmissione lo vale ma la pressione è davvero molta 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 tutti i punti di incontro abbiamo visto davvero una lotta importantissima placcaggi duri e fisicità già dei ragazzi assolutamente costruita. Possesso ancora per le Fiamme Euro vanno a scavare i giocatori di Rugby Experience recuperano la palla o forse un pochettino di interventi oltre i limiti dei giocatori cremisi che cadono al di qua della racca aquilana sopra il giocatore che aveva recuperato il pallone e il breakdown sta passando pian piano nelle mani degli aquilani che vanno ora in touch cercando di riportarsi a giocare nella metà campo cremisi non ci riescono tanti gli errori di calcio in touch proprio anche a testimoniare quanto l'attenzione sui particolari sia ancora tanto da curare e le abilità specifiche abbiamo visto anche sulle touch, sulle mische siano all'inizio di un percorso. Quella ultima azione dove perde la palla a Fiamme fa vedere una cosa chiarissima che è questo di... io ti dicevo che i ragazzi sono molto abituati a giocare alla continuità diretta come abbiamo visto nella meta dell'experience però non tanto quando il placaggio è forte, l'anticipazione di sostegno per giocare non ha la stessa qualità che l'anticipazione per giocare alla continuità diretta. e palla che vola nelle mani aquilani arriva al centro del nazionale intervento Iannucci e porta i compagni a marcare la terza metra dell'incontro partenza potentissima dei Rugby Experience l'Aquila che si porta quindi sul 19 a 14 in attesa della trasformazione. Tutta questa sequenza di gioco che è successo fa vedere questo che dicevamo della diagnosi che abbiamo fatto che Ragui Spirins ha giocato questo calcio di recupero e ha giocato la continuità diretta bellissimo giocando così la larghezza, l'ultimo due contro uno è stato perfetto ma per trovare questo scenario quando tu sei in possessione di palla devi guadagnarti il diritto di giocare alla larghezza giocando forte in mezzo campo e lì dobbiamo migliorare un po' con l'anticipazione di sostegno e la qualità per risolvere le decisioni lì con poco spazio e nel contatto propriamente. Benissimo, e invece abbiamo visto davvero interessante che i giocatori non interessati allo spazio sul calcio recuperato da Spirins hanno appoggiato il triangolo allargato che veniva profondo e hanno creato la possibilità di ricreare la differenza a largo che comunque è tanta roba per questi ragazzi. Sì, 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 non è facile di fare e loro l'hanno fatto molto bene per quello dico, il gioco alla fine è come un pazzo, non so come si dice in italiano esattamente però ogni parte si deve lavorare tutto insieme. Bisogna essere perfetti in ogni parte del campo, ce l'ha fatto vedere ieri sera l'Irlanda insomma, davvero partite altissimo livello ma speriamo che questi ragazzi tra 4-5 anni possano essere protagonisti di queste partite qui. Intanto abbiamo visto mancata trasformazione per Rugby Experience e ecco, sì, i particolari che fanno la differenza stessa posizione, stesso calciatore, esito diverso e bisogna sempre continuare a portare attenzione una palla un pochettino forzata il passaggio probabilmente era già stato assegnato il vantaggio all'albero giurina e quindi i giocatori aquilani hanno provato a forzare un passaggio a largo anche questa capacità di comprendere i gesti dell'arbitro che debbono essere sempre chiari perché diciamo che in questi giorni abbiamo avuto anche Gian Piero Salvi qui da noi è importante nella crescita di tutto il movimento che ci siano gli allenatori che provano le loro strategie nel crescere che vi siano i giocatori che sono attori fondamentali in campo ma che anche gli arbitri abbiano la possibilità di confrontarsi in questo livello perché sono poi loro il metro dell'efficacia del gioco No, e anche sono parte importante del nostro sviluppo loro hanno anche un ruolo didattico in questa etapa di sviluppo è fondamentale se l'arbitro è anche didattico, molto importante Didattico lo ricordiamo quindi per tutti ma anche per tutti coloro che si vogliono approcciare alla competenza arbitrale è importantissimo segnalare, parlare con i giocatori fare gesti chiari e molto evidenti soprattutto per i ragazzi in formazione intanto palla portata a largo per l'Aguia ma era chiaro un passaggio in avanti sfuggito in avanti alle mani dei portatori Rugby Experience e quindi si ripartirà con una mischia per le fiamme oro all'ottavo minuto la prima mischia del secondo tempo Fase di conquista fondamentale sempre stata fondamentale per quanto si cerchi di, a volte le varie regole cerchino di limitarla ma è sempre più fondamentale del rugby i ragazzi che iniziano davvero ad approcciare questo lavoro abbiamo visto ieri ad esempio il rugby rovigo davvero molto 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 avanti nella coesione della mischia nell'unità di intenti con cui il pacchetto deve lavorare squadre che invece ancora debbano lavorare forse anche sulla specializzazione del sindaco del singolo buona adesso la pressione portata da Rugby Experience in genere chi non introduce ha vantaggio quando la mischia non è molto voluta sì 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 la mischia e anche la touch le azioni di conquista noi dobbiamo continuare sviluppando qui si vede più lavoro sul concetto di gioco che sulla conquista però adesso è il momento giusto per continuare questo lavoro della conquista che sarà fondamentale penso che tutti i club lo stanno facendo piano piano e intanto continua la battaglia tra Fiamme Oro e Rugby Experience L'Aquila calcio di punizione per un placcaggio alto sanzionato contro Rugby Experience dall'arbitro Giurina è scivolato il portatore ma il placcatore si è trovato quindi a colpirlo sopra il livello delle spalle sicuramente in maniera involontaria ma in maniera regolare e adesso lancio per le mani del tallonatore delle Fiamme Oro Rugby ripetiamo due squadre che si conoscono da tempo che collaborano insieme che hanno lavorato un paio di settimane fa in allenamenti congiunti proprio per fare sistema anche di questo rugby del centro Italia che porta sempre più protagonisti nelle fasi finali dei vari tornei nazionali palla mossa al secondo centro calcio appena andare alto a portare pressione buono il recupero in area dell'estremo nero verde che si era proposto c'è forse ora la possibilità di sfruttare un piccolo soprannumero in chiusa essenziale mantenere il possesso e testare adesso dopo un primo punto incontro tutta la larghezza del campo vediamo i ragazzi biancorossi schierati ma c'è un intervento non regolare delle Fiamme Oro e quindi che porta la perdita del pallone per gli Aquilani e quindi calcio di punizione e un richiamo verbale anche dell'arbitro Giurina al capitano Cremisi Tusch di nuovo non di nuovo sbagliata dagli Aquilani ecco ci vuole davvero una grande grande gratte attenzione in questi frangenti buona la penetrazione del Fiamme Oro Rugby e punisce in questo caso l'arbitro il ceiling off delle Fiamme Oro il sostegno di conservazione spieghiamo per coloro che magari ci vedono bisogna sempre dare la possibilità alla squadra in difesa sul punto di incontro di contestare in piedi e spingendo la palla quindi sia la difesa sia coloro che sono portatori della palla l'attacco sia la difesa coloro che la vogliono recuperare debbono farlo rimanendo in piedi e lottando il punto di incontro è sempre difficile da arbitrare è difficile da giocare per tutti assolutamente e lì non in questo punto di incontro che era qui nell'estremo nella larghezza che lui ovviamente deve rimanere con la testa alta lasciando lo spazio però soprattutto in tutti i breakdown il punto di incontro che si fanno fra 15 e 15 in mezzo del campo dobbiamo continuare anche con l'abitudine di spingere per prendere il giocatore della difesa questa è la visione che dobbiamo continuare lavorando buona ancora la penetrazione aquilana con palla persa davvero a un metro dalla linea di meta persa all'indietro ma recuperata dalle fiamme oro una qualche mossa di judo che ricordiamo è vietata in questo sport sul punto di incontro ma la fisicità di questi ragazzi comincia ad essere importante e comincia a sentirsi prova giocando velocemente Rugby Experience a chiudere questa partita al tredicesimo minuto c'è forse un piccolo soprannumero a largo prova ancora ad attaccare per linea diretta i giocatori aquilani e la linea difensiva delle fiamme oro ma buca una difesa tenuto alto dicono dice dice l'arbitro il giocatore aquilano ma il scenario era chiaramente per giocare alla larghezza ha mancato comunicazione perché per me loro l'hanno visto però non hanno comunicato bene e nuovamente un sbaglio nel calcio diciamo sempre il rimbalzo della palla il calcio che rimbalza a favore il tenuto alto in area di meta in una situazione chiaramente avanzante sembra una banalità ma in realtà è quasi una regola non scritta di questo sport se fai le cose sbagliate ti esce qualcosa che non funziona assolutamente ma nuovamente si vede in questa ultima azione dell'Aquila dell'experience che nel momento di contatto non so se è molto specifico questo il portatore di palla attacca in piedi si mette fra due difensori il sostegno interno che arriva invece di attuare con anticipo sopra lui spingendolo a lui aspetta che vada a terra e dopo mette l'azione questo è un problema il riferimento che prende il sostegno per lavorare è sbagliato esatto aspetta che il portatore abbia compiuto la sua azione mentre invece manca veramente quella capacità di anticipazione intanto ripartenza in chiuso della terza centraquilana ancora la frenesia l'essere un pochettino troppo avanti rispetto al passaggio porta a un nuovo turnover ritmo che si è abbassato leggermente forse anche poca poca stanchezza ieri i ragazzi anche hanno giocato ma si vede insomma che il ritmo è sceso un pochettino e la partita sta scivolando via al quindicesimo minuto ricordiamo 19 a 14 per Reggie Spines comunque partita tutto sommato gradevole vediamo l'ingaggio delle prime linee forse qualche spinta leggermente anticipata vede la spinta anticipata del pilone sinistro Clemisi l'arbitro schierato chiaramente nel lato aperto del campo probabilmente era anticipata da ambo le parti gioca ancora Rugby Experience davanti ai pali placcaggio mancato non può accadere e meta di ci sembra di Stefano Alfonsetti Coriacea terza linea Aquilana in mezzo ai pali ecco questo non lo dobbiamo vedere a questo livello no no era un placaggio uno contro uno con tanta azione di corsa del portatore ha preso la palla si viene in movimento ma non era un'azione impossibile di placare questo è un po' lo che avevi detto prima di lavorare anche nel gesto generale diciamo come il placaggio dobbiamo lavorarlo di più con più dettaglio tecnico e comunque allungano gli Aquilani il loro vantaggio 24 a 14 facile trasformazione 26 a 14 per Rugby Experience l'Aquila quando siamo 26 a 14 26 a 14 quando siamo al sedicesimo minuto portandosi sul punteggio di 26 a 14 calcio di via ancora per le Fiamme Oro e proveranno a portare pressione buono la ricezione della seconda linea Aquilano ma isolato riescono per fortuna a mantenere il possesso gli Aquilani ma sostegni leggermente ritardo a volte quello che ti diceva del riferimento io sempre se lo dico ai ragazzi così noi non dobbiamo ammassare il pescatore dobbiamo fare che lui non asca anticipando il sostegno è molto più facile fare avanzare una macchina che già sta iniziando la sua corsa che da fermo Ennan abbiamo diciamo spesso anche nei corsi allenatori in quella che è la didattica federale chiaramente quando si parla da professionisti si parla con una terminologia che è adeguata quindi quando i formatori parlano agli allenatori e i ragazzi parlano con terminologia adeguata la capacità di un allenatore è pure però quella di dare poi sintesi efficace come dici tu la metafora del pescatore ai ragazzi e lo ritroviamo sempre meno quando io sono un po' vecchiarello ho 46 anni ma quando giocavo io ci dicevano uno in anticipo uno giusto uno in ritardo che è una semplificazione essenziale anche di quello che dicevi tu ci deve essere sempre capacità di anticipazione qualcuno che ti copre correttamente e qualcuno che ti copre se qualcosa non funziona come si deve alla fine le vecchie semplici come dire metafore funzionano eh sì ma il problema per valutare sia in anticipo giusto o in ritardo per me qual è il riferimento che tu prendi per fare questo anticipo giusto o ritardo in questo caso lo che sento è che tante volte i ragazzi vedo che spesso non hanno un buon riferimento per iniziare il suo lavoro diciamo se io aspetto a che il portatore va a terra sono in ritardo già per default diciamo hanno poca capacità di lettura di quello che può accadere non so se loro hanno poca capacità di lettura o noi li stiamo facendo leggere male che guardino poco rugby mi viene in mente o noi non stiamo lavorando benissimo per farle capire le cose non lo so però alla fine dobbiamo farlo meglio è vero e serve anche questo e anche queste questi momenti servono proprio per migliorare perché hai un materiale umano importante tutto concentrato in un stesso momento e anche il confronto proprio la relazione tra gli addetti ai lavori è davvero davvero importante qui si vede che networking lo più importante ce l'abbiamo che questo torneo con tanti ragazzi con questa voglia di fare veramente stanno giocando bene stanno giocando molto bene dobbiamo andare sul piccolo dettaglio veramente è un piacere vedere questo ancora tentativo di tenere sempre la palla viva da parte di Rugby Experience palloni recuperati palloni giocati nessuna strategia davvero un atteggiamento bello e positivo ti espone questo chiaramente alla perdita del possesso a lasciare il recupero agli altri ma è parte del modo di giocare questo tipo di torneo anche il turnover che abbiamo visto anche l'organizzazione gli amici di Lorenzo hanno chiesto una deroga alle regole federali per poter portare in lista gara 30 giocatori e quindi far sì che le squadre potessero ruotare tutti e ieri abbiamo visto soprattutto c'erano squadre di diverso livello in diversa preparazione che gli allenatori hanno approfittato per mettere in campo sempre formazioni diverse benissimo questo è un altro vantaggio che vedo qui in Italia è la competizione con il 6 nazioni quando si fa il summer serie del 6 nazioni si prendono tutte queste regole di portare 30 ragazzi di fare giocare a tutti sono cose importanti per il sviluppo assolutamente sì vediamo ancora questa mischia quando la partita è praticamente giunta a termine un'ultima piattaforma d'attacco per Reggae Spines mischia che ruota in maniera non favorevole agli attaccanti tentativa di attaccare un primo centro ma palla che non viene recuperata dal ricevitore e da quindi la possibilità alle fiamme oro rugby di riportarsi in attacco buona la pressione di tre quarti Aguilani che non concedono una linea del vantaggio ai giocatori cremisi e ancora contro l'Ak ne approfitta il mediano di mischia con una ripartenza tipica al lato chiuso vediamo se decideranno i ragazzi di Reggae Spines no si attacca attacca non giocano vogliono divertirsi fino alla fine è bellissimo vedere questo atteggiamento sì 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 si portava la palla in due mani faceva l'ultimo da contro uno era anche più bello per lo stesso stato e c'è chi invece non è della stessa idea va in tors finita questa partita per quinto e sesto posto vince Rugby Experience l'Aquila per 26 a 14 questa finale quinto e sesto posto io ringrazio davvero Hernan Hernandez il responsabile tecnico dell'alto livello federale FIR spero che oggi tu possa prendere buone indicazioni a noi ne hai date sicuramente a livello tecnico nella speranza sempre che chi ci segue abbia interesse a sentire i commenti competenti di chi lavora magari con i loro figli con i loro amici grazie a voi è stato un piacere per me sinceramente nuovamente complimenti per questo spettacolo e chiudiamo allora per il momento questa diretta ricordiamo a tutti che riavvieremo il nostro cronaca il nostro commento alle ore 14 per la finale terzo e quarto posto tra Capitolina e Colorno ci vediamo a pranzo a dopo grazie 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 L'anno scorso protagonisti entrambi di un'entusiasmante finale Under-19 che ha visto trionfare il rugby colorno. Tutto pronto per il calcio d'inizio, la terna arbitrale composta dal signor Giurina, Grillo e Sironi, adesso arbitra in maniera completa. Pronti allora ad entrare in campo? Pronti allora ad entrare in campo? Colorno che stanno facendo il nuovo ingresso in campo per la finale terzo e quarto posto. Arriva un po' di pioggia sul campo di Centicolella, Stefano Bernardi, esperto meteo a Guinano. Stefano Bernardi Meteo lo potete seguire sui social. Cosa ci aspettiamo? Quali sono le previsioni prossime qui sul campo di gioco in quest'area specifica? Ma guarda sul campo proprio del Centicolella ci dobbiamo aspettare instabilità. Cosa vuol dire? Un po' di pioggia, poi un po' di secco, insomma asciutto, un po' di sereno. È la classica instabilità che ci può regalare dei piovaschi, dei rovesci ma nello stesso tempo anche delle belle fasi asciutte. Grazie mille Stefano. Tutte le professionalità della città a disposizione in maniera volontaria e professionale degli amici di Lorenzo per l'organizzazione di questo dodicesimo Memorial Lorenzo Sebastiani. Arriva effettivamente un'algera pioggerella a infastidire le due squadre che entrano in campo. Sicuramente non verrà meno lo spettacolo. Per incontrare il rugby colordo e il meno rugby capitolina, albitra, il signor Grillo, il codice di linea, Sironi e Giulina. Calcio d'inizio affidato alla capitolina rugby, mentre il colorno giocherà oggi in verde. Ne abbiamo visti ieri con le maglie rosse, con la prima maglia rossa. Pronti? Si parte. Calcio d'invio alto lungo lungo dentro i 22 metri, pronta ricezione e immediato utilizza il piede stoppato dalla rugby capitolina ma recupera l'ala del rugby colorno. Il raggruppamento adesso proveranno probabilmente i ragazzi di colorno un primo punto d'incontro. No, muovono nonostante il maltempo la palla a largo, palla strappata ancora dalla rugby capitolina e recupera un secondo pallone. Questo mezzo minuto all'interno dei 22 metri del rugby colorno e si prepara ad attaccare. Ancora un punto d'incontro, la palla è libera, dice l'arbitro, possono quindi approfittarne per recuperare di nuovo i giovani regbisti del colorno. Lancia a zero e ancora un calcio sotto pressione ma che fa strada. Tre rapidissimi turnover in questo primo minuto, ancora un interessante calcetto della rugby capitolina a mettere pressione e ancora palla che sfugge ai ragazzi della rugby del colorno all'indietro. Recuperata per un momento alla rugby capitolina che effettua l'ultimo tocco in tuscia. Il lancio quindi con non poca pressione sarà per le mani del tallonatore del colorno. Tush con qualche difficoltà e mischia a favore della regola. Rugby capitolina ma il signor Grillo richiama all'ordine i ragazzi romani troppe parole in campo, giocare di più e parlare meno, dice loro. Intanto un'introduzione davvero interessante per l'Unione Rugby capitolina. Buono il tallonaggio del rugby capitolina ma contro il tallonaggio del rugby colorno riesce a recuperare la palla e prova a liberare con un calcio che finisce di nuovo in mani romane. Provano al lato chiuso ancora riportarsi ai 22 di Emiliani ma c'è un Marche chiamato dal numero 9 del colorno e giocano velocemente cercando di contraattaccare la loro area di meta. Spostano la palla e quindi un lungo calcio a mettere una buona pressione questa volta alla rugby capitolina. Si esplorano al piede le due squadre. Vediamo se deciderà di andare in tuscia ora rugby colorno. Lo fa con un ottimo guadagno territoriale. Si ripartirà dai 10 metri dell'Unione Rugby capitolina con lancio ai romani. Primi minuti di gioco al piede. Non copre la profondità colorno quindi andrà aggressiva a salire con tutta la sua linea dei tre quarti. Riesce infatti a recuperare il pallone. Riescono a recuperare il pallone gli Emiliani. Qualche mano di troppo in rack ma esce la palla e ancora un calcetto a mettere pressione dell'apertura del colorno. Ancora un Mark chiamato dall'Unione Rugby capitolina. Tanta tanta attenzione da parte di entrambe le squadre. Oggi è già più rugby da grandi. Stiamo vedendo in queste partite. Lancia all'altezza dei 10 metri del campo della rugby capitolina per colorno. Si riuniscono i ragazzi per decidere cosa fare. Da Tusch sarà giocata ridotta a 5 uomini. Si adegua Unione Rugby capitolina. Tre saltatori centrali. Vediamo dove andranno. Salta dietro il rugby colorno. Ma il lancio è sbagliato, è basso. Ne approfitta Rugby capitolina per recuperare e contraattaccare portando immediatamente la palla a largo. C'è ancora spazio probabilmente al lato aperto del campo. Ma siamo sempre lì, poco oltre i 10 metri capitolini. Ancora inchiusa la squadra romana. Buona pressione di colorno. Si rifugia in Tusch. La squadra romana. Ancora buon utilizzo al piede dell'Unione Rugby capitolina che guadagna una buonissima Tusch nella metà campo degli emiliani. Emiliani che vediamo abbastanza spesso sono scoperti sulle ali, sui calci profondi della squadra romana. Si confrontano Sironi e Grillo direttore di gara e segnalina all'altra parte vediamo l'Aquinano Luca Giurina Lancio sicuro a primo uomo per il rugby colorno che porta subito la palla a largo facendo buone fissazioni centrali e fa viaggiare l'ovale fino all'ala guadagnando la linea del vantaggio fino a metà campo proverà ora a un primo punto d'incontro a fissare il gioco sempre in avanzamento per tornare no, per tornare ancora in chiusa utilizzo ancora del piede in questo inizio partita ma la palla è recuperata dalla rugby capitolina che se tanto ci dà tanto non rinuncerà a giocare. primo calcio di punizione per placatore no, non placatore del Norrot ma probabilmente mani in racco o forse giocatore che non era sui piedi e può approfittarne la rugby capitolina per guadagnare terreno e andare in touch non importante il guadagno dell'unione rugby capitolina ma il lancio sarà per le loro mani lancio per le mani della squadra romana secondo blocco marcato a rugby colorno la touch esce infatti un po' storta sulla pressione mischia per gli emiliani e ci ha raggiunto finalmente dopo due giorni faticosissimi per lui di questo dodicesimo memorial Lorenzo Sebastiani Amerigo fratello di Lorenzo tra i promotori insieme a Mario Di Giovanni il cugino e tanti tanti amici gli amici del campo gli amici della scuola gli amici della vita di Lorenzo che tutto noi ricordiamo io lo ricordo quando facevo il video analyst in Super 10 come uno dei più giovani di quel meraviglioso gruppo dell'Aquila del 2008-2007 e Amerigo abbiamo parlato della memoria che tanto più è importante quello che abbiamo fatto in vita quello che siamo stati ma in qualche modo pure quello che ci è accaduto quanto più si ricordano di noi e sicuramente rendete onore oggi a Ciccio a Lorenzo nella dodicesima edizione una delle più belle di questo memoria Lorenzo Sebastiani allora io ti ringrazio per le bellissime parole che sono tutte indirizzate non a me perché sono la figura diciamo apicale dell'associazione ma gli ringraziamenti vanno fatti alla base cioè a tutti quanti i ragazzi che ogni anno ripeto volontari perché amici di Lorenzo che hanno giocato con Lorenzo che hanno conosciuto Lorenzo e sanno i valori che mettiamo ogni anno per realizzare questo torneo che come dici tu anno per anno sta sempre crescendo sempre di più anche e soprattutto a livello qualitativo e quest'anno abbiamo avuto conferma perché a contendersi il premio sono veramente le migliori realtà italiane under 18 ti ringrazio per le belle parole non rubiamo tempo alla telecronica assolutamente non vogliamo farlo ma come dire ha senso proprio nel senso del gioco e nella categoria parlare anche di quello che accade fuori dal campo perché è vero che comincia ad essere un rugby competitivo ma è importante anche la dimensione sociale di quello che si fa fuori dal campo e l'abbiamo detto più volte un gruppo ormai quasi di 60 persone e ci dicevano stamattina gli amici che raccontavano cose bellissime cioè dei ragazzi che erano qui ieri vedono tutti che si hanno a fare e stamattina vengono a dare una mano a pulire gli spalti perché la bellezza la bontà contagia e allora volevo ricordare insomma che in questi 12 anni l'abbiamo già detto più volte quasi 60 volontari donazione all'Aquila per la vita associazione scredosa per il terremoto della matrice per l'ospedale dell'Aquila quest'anno borse di studio per giovani e ragazzi che non hanno la possibilità che potranno fare sport e una collaborazione con l'università sì quest'anno abbiamo deciso di supportare un'associazione altra dell'Aquila che è l'associazione Luca Moro che già da qualche anno mette a disposizione delle borse di studio per finanziare l'attività sportiva dei ragazzi che hanno meno possibilità di tutta la provincia dell'Aquila delle scuole elementari e medie ci siamo uniti a loro nella realizzazione di queste borse di studio che arriveranno noi ne metteremo 10 loro 40 per un totale di 50 borse di studio a favore dei ragazzi delle medie e delle elementari per supportare un anno di sport non solo rugby sport in generale tutto dalla scherma alla pallavolo a calcio qualsiasi cosa basta che è lo sport perché abbiamo capito e questo è l'esempio di tutti i giorni che lo sport è la cosa che forma di più i ragazzi ed è per noi è un orgoglio poter dare la possibilità a dei ragazzi meno fortunati di poter praticare lo sport perché poi magari nelle famiglie si devono fare i conti a fine mese a fine anno e magari dove si va a tagliare sullo sport e invece no lo sport come la scuola deve essere alla base di tutto della società e soprattutto la società del futuro perché loro saranno il nostro futuro futuri atleti futuri cittadini futuri il nostro futuro speriamo più eroso possibile a questo punto sicuramente lo sport qualsiasi sport fa bene qualsiasi sport è positivo per noi il rugby è meglio chiaramente però perché è quello che vogliamo più bene intanto la partita si accende in maniera straordinaria e meravigliosa anche con un po' di nervosismo ma ci sta è uno sport fisico è uno sport duro giusto intervenire subito richiamare tutti quanti all'ordine ma questo tipo di schermaglie servono anche a chiarire i ruoli in campo bisogna fare attenzione anche a livello arbitrale molto sui punti d'incontro un punto d'incontro che dura più di tre secondi c'è qualche problema e bisogna intervenire subito ti libero Amerigo perché so che hai tanto tanto da fare con un'ultima considerazione già l'anno scorso un alto livello a livello di competizione quest'anno ancora di più con i massimi vertici federali da un punto di vista tecnico di responsabilità tecnica soprattutto giovanile ma anche è stato con noi Hernandez per responsabile dell'alto livello vicepresidente e presidente federale anche da un punto di vista sportivo il torneo memoria a Lorenzo Sebastiani che lo ricordiamo è stato pilone under 20 della nazionale comincia a interessare il rugby che conta e questo non può che farci piacere sì sicuramente ci fa molto piacere e mi inorgoglisce e ci inorgoglisce a noi ragazzi dell'associazione amici Lorenzo perché essere riusciti ad arrivare oggi con questa realtà è una bella soddisfazione è una bella soddisfazione considerando che partendo dalle basi con tanto sacrificio dopo 12 anni è una bella è una bella cosa e siamo siamo orgogliosi anche del feedback ricevuto sia dalle persone che contano nel mondo del rugby ma anche dalla semplice gente dagli semplici appassionati e questo vuol dire che a 360 gradi lavoriamo bene e quindi non è nient'altro che un altro punto di partenza su cui partire per le prossime edizioni e fare sempre 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 meglio perché non abbiamo intenzione di fermarci adesso benissimo chi parla ci sarà sempre per voi con tutta la buona volontà per darvi una mano e intanto torniamo alla partita che sta avendo davvero spunti molto molto interessanti punto d'incontro dove non si può lasciare nulla neanche mezzo secondo di ritardo abbiamo visto diversi turnover calci di punizione e diversi è davvero una lotta importantissima per la conquista dell'ovale pian pianino Colorno si porta all'interno dei 22 metri laziali vediamo quale sarà la loro scelta si va verso una tush completa a quanto vediamo sì tush completa per Colorno i quattro saltatori che stanno per entrare nello schieramento calcio di punizione corretto avevamo ben visto ci sono due mediani di misca per Colorno e quindi punizione di seconda per infrazione in tush un'ingenuità davvero ci sembrava anche a noi il numero 9 e il numero 6 di Colorno entrambi fuori dallo schieramento come mediani di misca e non si può deve essere uno solo tentato intercetto che poteva essere vincente per Colorno e lo espone invece a un contrattacco della Capitolina che buca profondamente e largo la difesa emiliana un passaggio in avanti ci è sembrato forse il Colorno no secondo il direttore di gara che era sicuramente più vicino di noi al punto d'incontro e allora può liberare la squadra emiliana sfida diretta uno contro uno vinta dalla Capitolina ma piede fuori per il giocatore Romano troppe parole davvero in campo il segnaline era davanti al giocatore sicuramente la persona più competente per vedere quello che è accaduto in campo come ci confermano anche le immagini il piede era sulla linea ma troppe parole davvero bisogna riportare tutto quanto a giuste giuste considerazioni siamo intanto al quindicesimo minuto di gioco lancio ancora per il talloratore di Colorno Tusch ridotta buono il salto del giocatore di Colorno palla che con difficoltà arriva agli avanti schierati per recuperarla e portare pressione gioca ancora Colorno dai propri ventidue porta la palla a largo possibilità di attaccare giocatore portato fuori dalla rec di Capitolina il lancio sarà per sarà per le mani dei giocatori laziali lancio per le mani del talloratore di Rugby Capitolina lancio storto correttamente segnalato dall'arbitro Grillo e si ripartirà con una mischia per il rugby Colorno davvero una partita molto molto equilibrata qualche errore da una parte o dall'altra ma la pressione è tanta e il ritmo comunque abbastanza elevato buona l'ingaggio della mischia ancora rubata all'Unione Rugby Capitolina che restituisce diciamo così il favore al Colorno seconda mischia rubata dell'incontro prova con un calcetto ad avanzare i giocatori della Rugby Capitolina e buona la pressione dei Romani sul punto d'incontro e pallone recuperato il rack da portare fuori subito questa palla palla di recupero deve viaggiare a largo lo fanno bene i giocatori Romani c'è possibilità di una marcatura si ferma impegabilmente il numero 18 Romano non si fida del compagno a sostegno all'esterno ma c'è ancora un'opportunità per l'Unione Rugby Capitolina calcetto del numero 28 Romano che tenta di sorprendere la difesa del Colorno nulla di fatto si poteva forse sfruttare meglio quest'occasione si ripartirà da un calcio di rinvio dalla linea di meta di Colorno partita dura ed equilibrata lungo drop che arriva all'altezza dei 10 metri della Rugby Capitolina che prova a muovere palla subito all'esterno calcetto per l'ala romana bene intercettato dal numero 14 Colorno c'era sembrato di vedere un placcaggio in area invece il signor Grillo indica mani in racco probabilmente l'utilizzo delle mani per ripulire il punto d'incontro e il calcio sarà a favore dei romani che ne approfittano per andare a giocare nei 22 metri emiliani non un grande guadagno territoriale lancio ancora per le mani dell'area di Capitolina altissimo il saltatore Capitolino non perfetto però il lancio palla recuperata da Colorno che si ripò che rimette pressione nella metà campo del Rugby Capitolina ancora un altro calcio ben schierati sulla profondità dei giocatori del Colorno e possibilità di contrattacco possesso ancora per Rugby Colorno e vantaggio per farlo il punto d'incontro mossa bene la palla dagli avanti del Rugby Colorno buoni vicini precisi i sostegni e ora possibilità di trasmettere a largo ancora una palla che viaggia viaggia velocemente buona penetrazione nel numero 7 che legge un ritardo nell'intervento della difesa romana Palla persa riguadagnata poi ripersa al Rugby Capitolina ma c'è un calcio di punizione a favore del Rugby Colorno che al ventesimo del primo tempo a tempo scaduto va per i pali provare a marcare i primi tre punti dell'incontro intanto come ci diceva Stefano Bernardi ha smesso di piovere è arrivato la che gocciolina subito che ha subito il cielo però subito non rischiarato ma sono finite le precipitazioni speriamo che questa instabilità ci faccia giocare una tranquilla finale silenzio per il calcio del Rugby Colorno Buon indirizzato che c'entra i pali tre a zero per il Rugby Colorno alla fine del primo tempo di questa finale terzo e quarto posto e con un calcio di punizione trasformato in mezzo ai pali si chiude il primo tempo con il Colorno in vantaggio di tre a zero contro l'Unione Rugby Capitolina Intervallo di una decina di minuti primo tempo che ha visto le due squadre sostanzialmente equivalersi un buon giudizzo del gioco al piede nel cercare di guadagnare una posizione favorevole per portare l'attacco all'avversario alla fine ha avuto la meglio Colorno con un calcio piazzato arrivato al ventesimo ma davvero un buon rugby giocato dalle due squadre hanno utilizzato il piede quando era necessario hanno mosso la palla quando potevano portando molto spesso in zona tre più distante dal punto origine del pallone attacchi che hanno creato soprannumeri bello interessante sicuramente un buon viatico per il secondo tempo nonostante il tempo incerto si è intanto riempita la tribuna dell'impianto sportivo di Centicolella giocatori appassionati amici tanti i genitori degli atleti di squadre romane arrivati all'Aquila per questo secondo dodicesimo Memorial secondo giorno del dodicesimo Memorial Lorenzo Sebastiani grazie Approfitta di questo tempo di pausa anche la terna arbitrale per confrontarsi sul gioco più si intensifica l'agonismo, più ci avviciniamo alla finale, più la palla è contesa più si fa complesso anche il loro lavoro è importante, abbiamo detto per tutto il torneo, che anche loro si confrontino sull'adeguamento delle squadre al regolamento e sul metro da dare all'indirizzo del gioco Per questa finale terza e quarto posto e per la finale prima e secondo posto i tre direttori di gara si alterneranno alla direzione e come guardaline si caricano i giocatori di Colonna e i giocatori della Rugby Capitolina per questi ultimi 20 minuti del loro Sebastiani 2023 Io ringrazio sempre Gigi Benedetti e Donalello Ricci alla parte tecnica per le immagini che vi stanno fornendo In basso a sinistra del schermo che vedete nella nostra diretta YouTube vedete il logo dell'associazione Amici di Lorenzo l'associazione che organizza annualmente il torneo Lorenzo Sebastiani ormai interrottamente tranne il 2020 per le sospensioni dovute a causa Covid questo torneo qualche cambio nelle file della Rugby Capitolina ci sembra che non ci siano cambi invece nel Rugby Colorno e si parte per questo secondo tempo calcio profondo per Colorno e subito calcio della Rugby Capitolina l'idea è chiara andare a giocare dalla parte opposta del campo prova ad esplorare il tre quarti del Rugby Colorno il campo a destra e a sinistra poi sceglie il suo lato ancora ben organizzati per rilanciare il gioco e ancora forse possibilità di sviluppare il gioco a largo trasmissione non perfetta ma ottimo calcio all'interno dei 22 metri romani del numero 13 di Colorno appena fuori dalla sua metà campo il lancio quindi sarà per le mani del tallonatore romano Tusch a domani secondo blocco vinta dalla Rugby Capitolina e si organizza una molla va in spinta prova a filtrare il numero otto del Rugby Colorno la palla esce va a percuotere la difesa Emiliana il numero otto della Rugby Capitolina e palla ancora a largo palla ancora mossa dei propri 22 della Rugby Capitolina c'è forse un vantaggio abbiamo visto un braccio steso dell'arbitro vediamo no ancora palla che arriva all'esterno ancora la terza linea Capitolina che rompe un placcaggio un secondo placcaggio prova una continuità diretta ma non riesce il compagno a prendere il pallone si torna infatti sul vantaggio che aveva concesso il signor Valerio Grillo chiama il numero del giocatore di Colorno in fuorigioco per dare spiegazioni chiare ai ragazzi in campo e la Capitolina andrà in tush ottima tush guadagnata alla Rugby Capitolina che si riporta nei dieci metri avversari tush ridotta un solo uomo schierato in mezzo a tre quarti per la Capitolina assalto sul blocco centrale ben conquistato palla al centro e l'avanti Capitolina va per prendere la palla ma lettura perfetta nel numero 12 del rugby Colorno rientra poi per cercare i sostegni forse palla leggermente sigillata ma non c'era sostegno di conservazione da parte di recupero da parte della Capitolina e palla intercettata dall'estremo dall'estremo romano passaggio in avanti che vanifica però l'azione dei giovani tre quarti romani e ci ha raggiunto di nuovo e ci fa davvero piacere il vicepresidente della Federazione Italiana Rugby Giorgio Morelli che ci accompagnerà nella telecrona di questo secondo tempo Giorgio perché prima abbiamo parlato diciamo così di politica adesso ti chiedo anche un'opinione tecnica questo Rugby Colorno e Rugby Capitolina stanno giocando per il terzo e quarto posto qualche impressione ma guarda intanto questa se non ricordo male è stata la finale dell'anno 19 ti confermo l'abbiamo appena detto quindi è interessante vedere questo confronto un anno dopo in realtà con il cambio delle categorie da dispari a pari in realtà è come se fossero under 17 della scorso sistema quindi è interessante vedere come come giocano e qual è il livello consideriamo che siamo all'inizio della stagione quindi le squadre è chiaro che non hanno l'organizzazione che avranno poi nel campionato però è importante vedere come questi ragazzi si approcciano come spirito e come attitudine è vero verissimo la finale dello scorso anno categoria under 18 e quest'anno racchiude tre annate di giocatori e quindi interessantissimo il massimo livello giovanile della federazione italiana rugby e per il massimo livello giovanile della federazione italiana rugby abbiamo vicepresidente e presidente della federazione oggi all'Aquila per la presentazione di una partnership pubblico privata diciamo così di una società di rugby per la qualificazione dell'impianto dello stadio fattori e una partnership pubblico privata fa nascere questo torneo dall'associazione amici di Lorenzo e lo fa crescere fino ad arrivare ad interessare i massimi vertici federali una buona prassi perché non tutto sempre deve venire dal centro sono belle cose che partono dal basso e che poi diventano talmente importanti da essere riconosciute dalla federazione presidente Marzio Innocenti intanto benvenuto grazie grazie sì questa mattina abbiamo avuto questo incontro pubblico con il sindaco con l'amministrazione e con l'imprenditore che Mauro Scopano che vuole impegnarsi e che si sta già impegnando con il rugby in maniera importante la collaborazione pubblico privato lo vediamo in tutta Europa è uno dei motori principali per far crescere per far crescere le realtà anche sportive per cui io francamente visto che l'Aquila è una una città strategica per la federazione italiana rugby che questo che oggi abbiamo iniziato sia un percorso che arrivi a conclusione anche in tempi brevi e anche questo Memoria Lorenzo Sebastiani arriva dal basso arriva dall'associazione amici di Lorenzo e oggi è richiamato qui voi siamo felici ma anche tanti tutti i tecnici federali che vengono a vedere ecco alcuni tra i protagonisti il futuro campionato di rugby under 18 beh ecco quello direi che è la cosa più importante che ci siamo io e Giorgio per carità a noi fa piacere che le persone ci dimostrino la loro felicità nel vederci ma oggettivamente è meno importante del fatto che qua ci sono tutti i vertici tecnici federali che si occupano di formazione che è una delle cose più importanti su cui stiamo lavorando da tre anni a questa parte nella speranza poi che la bella e divertente nazionale italiana che veramente sembra aver fatto un passo avanti nella competizione internazionale ispiri questi giovani che tra 4-5 anni possano essere loro i protagonisti il lavoro era proprio per questo io direi che la nostra nazionale ha fatto un salto di qualità perché a questo punto io direi che è certificato anche dai risultati dell'ultimo anno certamente abbiamo altri gradini da salire però nel frattempo io sono certo che questi ragazzi e devo dire che qualcosa lo vedo da come giocano guardano come giocano la nazionale e obiettivamente stanno tracciando quella che è una via italiana al rugby che per tanti anni abbiamo chiesto cercato io direi che gli appassionati possono essere tranquilli l'abbiamo forse trovata benissimo e dicevamo sempre dobbiamo essere di ispirazione i giocatori di alto livello devono essere di ispirazione le istituzioni devono essere di ispirazione perché poi i ragazzi guardano quello che fanno i grandi e se si fanno cose buone e cose belle usciranno cose buone e cose belle io vi ringrazio davvero per esserci venuti a trovare vi invito in una postazione comoda se volete rimanere con me mi fa piacere vi coinvolgerò come ha fatto con Giorgio Morelli non sull'aspetto tra virgolette politico e giustamente rivestite come figure all'interno della federazione ma sul commento tecnico da ex e competenti giocatori e torniamo un attimino sulla cronaca perché è giusto dare lo spazio ai ragazzi siamo qui per loro ancora una tuscia ridotta alla rugby capitolina continuano le schermaglie a destra e a sinistra del del campo di gioco Giorgio un'ultima battuta io ero impegnato nell'intervista al presidente Marsi Innocenti che ci ha salutato tu che cosa hai visto intanto ancora che ti è piaciuto in questi minuti di gioco squadre davvero equilibrate 3 a 0 per colorno ma non mollano un centimetro nessuno dei due spazi di gioco interessanti qualche errore ma per la troppa voglia di fare a volte ma guarda la cosa che di fatto impressione è che in piccolo i movimenti sono quelli i placaggi sono quelli è tutto proporzionato a quella che è la dimensione e l'età dei giocatori però mi sembra ecco questa serie che stiamo vedendo passaggi sotto pressione eh sulla sull'uomo fatti con notevole precisione diciamo che le capacità tecniche quelle che le skills ci sono tutte quindi su questa base si può si può veramente costruire costruire tanto è chiaro che l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere dobbiamo cogliere è quello di offrire a questi ragazzi il giusto palcoscenico nel momento in cui ne hanno bisogno loro usciranno dalla formazione giovanile a 18 anni la la capacità di essere già competitivi ad alto livello a 18 anni non sarà per un numero notevole di giocatori ma solo per i più talentuosi noi a tutti gli altri dobbiamo offrire la possibilità di maturare eh avendo eh possibilità di essere esposti a un livello sempre alto eh però in maniera graduale e su questo appunto stiamo lavorando un po' con tutti i club affinché organizzano delle squadre eh se non la prima squadra delle seconde squadre a Under 22 massimo Under 23 perché in questo modo si dà la possibilità anche a chi non è del tutto maturo di ancora maturarsi e poter magari essere poi selezionato in livelli ancora maggiori Capozzo D'Ocet finito nella predita francese che è comunque un alto livello non l'altissimo ma ripescato e protagonista poi del 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 Se Nazioni e del Mondiale come quello dicevi esattamente tu è possibile che qualche ragazzo non immediatamente maturo faccia un'esperienza e possa tornare di utilità o arrivare a moderazione leggermente più tardi parole Sacro Sante io ti ringrazio ancora per essere stato qui da noi buona continuazione buona partita Tusch vinta a due mani primo blocco per l'Unione Rugby Capitolina ma buona la pressione portata ancora da Rugby Colorno partita che si sta consumando all'undicesimo minuto di gioco sulla metà campo chiudiamo con una battuta intanto con Marco Molina presidente della Federale Rugby Abruzzo e così abbiamo tutti i livelli federali Marco Marzio Innocenti ha detto una cosa forte fortissima l'Aquila città strategica per il rugby italiano a noi non ci può che far piacere abbiamo anche detto in questi giorni quattro le strutture per il rugby in una città di 60.000 abitanti è una cosa importante squadra di serie A squadra di serie B tanto movimento giovanile insomma tanto lavoro per te ma penso pure un buon lavoro Marco che ne pensi? queste sono sicuramente le cose positive credo sia innegabile che l'Aquila sia una città strategica a livello nazionale per lo sviluppo del rugby il rugby il rugby e questa città hanno un binomio indissolubile che solo chi non vuol capirlo fa finta di non vedere è chiaro che con il contributo e l'aiuto di tutti l'Aquila deve ricollocarsi in una posizione ottimale nel panorama nazionale perché tutto il movimento regbistico in italiano ne gioverebbe non sto parlando né di categorie né di serie ma sicuramente deve dar vita a un movimento più congruo con quello che è lo sviluppo nazionale e con quello che può dare ancora l'Aquila a livello nazionale lo dicevamo a Calvisano in occasione del Final Four l'anno scorso di un rugby di marca aquilana cioè delle tanti componenti che lo credo e poi delle capacità e potenzialità per allenatori e per competenze che si irradiano estendo in tutto l'Abruzzo intanto vediamo un grandissimo calcio l'Unione Rugby Capitolina 50-22 che porterà quindi i Romani a lanciare una tush all'interno del campo del rugby Colorno ci sembrava avesse calciato prima dei 50 meriti sì esatto viene rettificata la scelta del segnalino in maniera corretta e Capitolina può avere una buona opportunità per riprendere in mano la partita ancora primo blocco dell'Unione Rugby Capitolina una molle creata la palla che si era un attimino staccata ma tutto buono per l'arbitro Grillo palla portata dietro e provano ad attaccare all'esterno i giovani romani sale la linea del Colorno vantaggio guadagnato però è ancora in percussione il pilone romano nel tentativo di andare a marcare la meta che rivoluzionerebbe l'incontro ancora i giocatori romani sulla linea di meta arginati da un coriaceo Colorno nulla di fatto si torna su un vantaggio per fuori gioco della linea di difesa del rugby Colorno l'arbitro Grillo correndo all'indietro e capita anche questo inciampa su un giocatore romano nulla di grave per fortuna si gioca cercando la marcatura pesante i giocatori della rugby capitolina ancora ripartenza inchiusa sostegni vicini efficaci palla sicura ancora esploreranno forse il lato chiuso i giocatori della rugby capitolina così è troppe persone forse sul punto d'incontro non hanno sufficienti uomini per rilanciare i capitolini ma riescono sull'asse ad avvicinarsi a un metro dalla linea di meta vicinissimi alla marcatura i romani ultimo metro dicono dalle tribune cercando di incitarli i tifosi arrivati dalla capitale ma è forte e consistente la difesa del rugby colorno provano a muovere palla i giocatori della rugby capitolina calcetto sull'ala che punta la bandierina ricicla la palla all'interno ancora un metro alla linea di meta raccoglie vai e va a marcare l'unione rugby capitolina sull'angolo a destra del campo complimenti per l'azione insistita la volontà forte e l'efficacia del gioco Marco davvero un'azione in apnea forse un minuto e mezzo di gioco bella interessante meritata per la capitale ti faccio ti faccio i complimenti per l'ottimo controllo della voce perché restare in apnea per così tanto tempo sicuramente è importante sì assolutamente è quello che dicevamo anche ieri l'intensità di questi incontri è quello che ci stanno mettendo in campo tutti i ragazzi non solo muovendosi strategicamente sul terreno di gioco ma proprio valutando le situazioni e cercando di renderle efficaci e ottimali per raggiungere l'obiettivo e in questo caso devo dire che la capitolina sicuramente ha raggiunto il proprio obiettivo tenterà Giacomo Moretti per la capitolina di arrotondare il risultato e centrare i pali parte la sua rincorsa il calcio è fuori misura 5 a 3 per l'Unione Rugby capitolina e ancora 3 minuti e mezzo per il Rugby Colorno per cercare di conquistare questo terzo posto del dodicesimo memoria Lorenzo Sebastiani Palla recuperata all'Unione Rugby capitolina messa in sicurezza forzano il punto d'incontro in maniera non corretta i giocatori al Rugby Colorno batte velocemente l'Unione Rugby capitolina cerca e rompe la difesa di Colorno può frenesia frenesia troppa fretta di andare a chiudere l'incontro e palla che sfugge in avanti è il giocatore dell'Unione Rugby capitolina ma siamo al diciassettesimo minuto e mezzo di gioco e il Colorno dovrà ripartire dai propri 22 metri grande lavoro fatto dal Giovane Trequarti Unione Rugby capitolina differenza creata frattura profonda che non si è concretizzata abbiamo visto abbiamo visto anche su Rugby Experience tante realtà tanta frenesia tanta voglia di fare a volte ci fa perdere la correttezza la giustezza del particolare ma guarda forse in questo momento della stagione forzare un passaggio cercare di fare qualcosa in più sicuramente ci sta perché dalla dimensione di quello che stanno vivendo i ragazzi per molti è il primo approccio in una categoria importante dove si trovano chiusi in un triennio quindi ci sono dei divari sia fisici che di età che iniziano a essere importanti a questo a questo livello e quindi provare tentare cioè cercare comunque di fare qualcosa in più porta i ragazzi ad avere dei nuovi stimoli che poi se siano efficaci o meno insomma in questo momento della stagione ci può stare diciamo lo vediamo anche adesso ad esempio il giovane mediano di mischia romano era all'altra parte della mischia parlo adesso non al presidente della fede del rugby Abruzzo ma l'ex giocatore all'allenatore anche Marco Molina la maturità umana la maturità personale tra un ragazzo di 17 11 a 9 anni insomma passa una bella differenza sì assolutamente sia a parte il livello fisico che chiaramente è importante ma anche in questo momento sicuramente ha giocato un brutto effetto l'emozione perché appena è entrato il ragazzo in una categoria chiaramente che lo vede fisicamente un pochino più piccolo rispetto agli altri e l'ha portato a fare questo errore bisogna valutare tutto questo nel giudizio poi globale che si dà per una manifestazione del genere però nel caso specifico ha risolto un problema di passaggio 9-10 che avevamo visto in primo tempo la capitolina è un passaggio davvero teso bello veloce preciso complimenti ecco tanti tanti spunti oggi per i tantissimi selezionatori che sono arrivati i responsabili dell'alto livello FIR i responsabili dei centri di formazione permanente i stessi allenatori delle società i video analisti insomma giornate che così ce ne vorrebbero sempre di più abbiamo detto come alcune società si muovono in maniera indipendente per cercare collaborazione confronto e come in linea generale il rugby del centro Italia insomma comincia a diventare davvero torni a diventare stia tornando a diventare davvero davvero competitivo creando un blocco di pressione importante da un punto di vista tecnico e di gioco dimostrazione era tante presenze di squadre romane aquilane del centro Italia in generale alle finali dello scorso anno a giovanite dello scorso anno a Calvisano lancio per le mani del tallonatore del rugby colorno il tempo è rosso sarà l'ultima possibilità per conquistare questo terzo e quarto posto possibilità possibilità che svanisce ci sarà una mischia probabilmente chiamata l'unione rugby capitolina e dopo tempo finito vedremo cosa sceglieranno di fare i ragazzi romani si sta per consumare la vendetta diciamo così della finale dello scorso anno tra i giovani del rugby colonna e del rugby capitolina e la vincente prima di Calvisano che abbiamo visto in un livello fisico davvero impressionante lo scorso anno due squadre molto 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 competenti e anche oggi il livello dello scontro e da un punto di vista tecnico e da un punto di vista fisico non è stato da meno anche con qualche momento di tensione che ci fa capire che alla fine si gioca un torneo di inizio anno ma i ragazzi ci tengono sempre come è stato detto certo bisogna mettere tutto nella dimensione giusta ma i ragazzi che sono dentro al campo lo fanno è chiaro che c'è agonismo ci possono stare dei momenti di tensione ma tutti vanno ristretti in quello che fanno i ragazzi sul campo perché tanto poi alla fine tutto deve finire lì chi sta fuori se riesce a capire questo e riesce a gestire il proprio ego mettendolo alle spalle e cercando di supportare i ragazzi sicuramente ne viene fuori uno spettacolo ma è quello che si sta vedendo in questo torneo è introdotto il quarto anello di questo bellissimo mondo che è quello degli appassionati degli spettatori della gente che segue questi ragazzi anche loro debbono fare di tutto per migliorare l'ambiente e la rugby capitolina regala un'ultima opportunità al rugby colorno di riaprire la partita con un passaggio in avanti muove la palla il colonno ma grande placcaggio del 24 della rugby capitolina che costringe ad un passaggio in avanti rugby colorno e chiude così la partita partita durissima e vittoria che va alla squadra romana partita davvero avvicente chiusa per 5 a 3 in favore della rugby capitolina che guadagna il terzo posto del torneo rugby del torneo Lorenzo Sebastiani un grande applauso a questi ragazzi che si sono battuti in una meravigliosa partita adesso invitiamo tutti i presenti a un momento di raccoglimento con tutte le squadre in campo grazie abbracci tra i giocatori scesi in campo così come deve sempre essere alla fine di ogni partita al triple fischio finale dell'arbitro un minuto per salutarsi e adesso un minuto di raccoglimento dedicato a Lorenzo Sebastiani sicuramente che gli amici di Lorenzo vogliono creare noi ne approfittiamo per ringraziare Marco Molina grazie alla presenza e grazie alla presenza di tutte le altre sfere federali qui all'Aguia è un piacere far vedere questo spettacolo a tutti quanti noi ti ringraziamo anche per averci assistito in questa nostra piccola cronaca Marco grazie a voi è un piacere un onore essere presente a questo tipo di manifestazioni che veramente danno lo specchio di quello che è e che deve essere il rugby in tutte le sue sfaccettature grazie grazie a te e ora lasciamo all'audio di fondo la cronaca di questi momenti emozionanti dedicate agli amici di Lorenzo quella è la sinistra ok chiediamo al rugby di avvicinarsi al centro del campo per favore grazie e invitiamo tutte le squadre ad entrare in campo tutte le squadre partecipanti al dodicesimo torneo memoria Lorenzo Sebastiani si avvicinano in campo per un minuto di condivisione di questi due giorni di rugby prima della finale tra Rovigo e Rugby Livorno grazie a tutti schierate in campo tutte le squadre partecipanti e tutti i volontari dell'associazione amici di Lorenzo tranne quelli strettamente necessari a continuare a far funzionare la macchina organizzativa in questo momento di pausa e condivisione grazie a tutti si chiude si chiude meravigliosamente il cerchio di tutti gli attori principali di questa manifestazione volevo ringraziare a nome di tutta l'associazione tutti i giocatori e tutti gli amici di Lorenzo che vedete schierati in campo è difficile raccontare chi siamo e cosa siamo diventati per farlo abbiamo deciso di prendere in prestito alcune parole che non molto tempo fa una persona ci ha dedicato a termine di queste parole vi chiedo di non applaudire ma di rispettare tutti insieme il minuto di silenzio io non ti ho conosciuto Lorenzo però immagino che solo una persona veramente speciale possa avere amici attrettanto straordinari decine di ragazze e ragazzi che per tre giorni ti sono instaccabilmente fatti in quattro per garantire la perfetta riuscita di un torneo a te dedicato non ti ho conosciuto di persona Lorenzo ma sabato sera attraverso gli occhi e le parole dei tuoi meravigliosi amici tra birre e arrosticini risate abbracci e qualche lacrima mi sembrava ogni tanto di vederti girare tra le griglie e il bar tra la cucina e i tavoli sotto al tendone instancabile a dispensare sorridi allegria ecco anche se non ci siamo mai stretti la mano sicuramente adesso conosco se non tutta almeno una buona parte di te e di questo credo che i tuoi fraterni amici debbano essere veramente fieri e orgogliosi grazie grazie a tutti grazie a tutti e lo abbiamo detto come abbiamo detto all'inizio di questa nostra telecronica la memoria di quello che siamo stati in vita rimane permane e si rafforza tanto più coloro che ci hanno conosciuti ci ricordano e tanto più condividono questo ricordo con gli altri bellissimo questo che hanno fatto gli amici di Lorenzo che con gli occhi verati di lacrime pian piano tornano al loro lavoro per completare uno straordinario pomeriggio di rugby noi torniamo alla finale tra rugby Rovigo e rugby Livorno e torniamo quindi alla finale tra rugby Rovigo e rugby Livorno le due squadre che più si sono dimostrate consistenti in questa due giorni di rugby squadre pronte per entrare in campo la partita si articolerà sempre su due tempi da 20 minuti mi raggiunge intanto come ci aveva promesso per quest'ultimo i 40 minuti di telecronaca della finale tra rugby Rovigo e rugby Livorno Antonio Totò Fidanza grazie Antonio ex giocatore ex giocatore dell'Aguia rugby ex giocatore rugby alghiero ex giocatore del primavera rugby ex giocatore Antonio ma ormai facciamo tutti ma fondamentalmente uno dei primi dei migliori dei più grandi dei tanti amici di Lorenzo attore tra gli altri con gli altri di questa della realizzazione di questo splendido dodicesimo memorial buonasera a tutti questa è un'edizione speciale straordinaria perché per la prima volta abbiamo abbracciato tutta l'Italia e di questo siamo orgogliosi e fieri benissimo ancora qualche ancora gli occhi lucidi Antonio come tutti quelli che erano allo stadio oggi per questo bellissimo ricordo di Lorenzo che ci ha piano piano introdotto e accompagnato alla finalissima del dodicesimo memorial che commenteremo con voi e per voi scusandoci per tutte le imperfezioni che questa nostra telecronica può aver regalato durante la due giorni ma come dire è volontariato anche il nostro e lo facciamo volentieri sempre nella memoria e nel ricordo di Lorenzo e per tutti i ragazzi che sono scesi che scendono e che scenderanno in campo per uno sport a cui vogliamo bene Antonio a cui non si smette mai di volere bene tanto è duro e tanto è spietato sì la passione è la prima è la prima cosa è il primo elemento che ci porta avanti e ci porta ogni anno a cercare di organizzare al meglio questo torneo che piano piano sta diventando qualcosa di importante a cui tutte le squadre tengono e tutte le squadre vogliono a cui vogliono partecipare e di questo ancora una volta vi dico ne siamo orgogliosi vedere ragazzi di 16 17 18 anni che si danno battaglia in campo rispettando tutti i valori e i principi di questo sport è poesia è pura poesia e è solo emozione e allora Rovigo e Livorno che scendono in campo per questa finalissima pronte ad entrare in campo le due squadre e entrano in campo il rosso-blu di Rovigo e i bianco-verdi Livornesi per questa sfida finale Antonio nell'introdurre ho detto le due squadre più consistenti del torneo sì assolutamente sì abbiamo visto tanta qualità da ambe due le squadre durante tutto il girone di qualificazione Livorno è cresciuta durante tutto il torneo e anche Rovigo piano piano è entrata sempre di più mostrando dei contenuti tecnici di avvero davvero di altissimo livello agli ordini del signor Sironi coadiuvato da Luca Giurina e Valerio Grillo la terna arbitrale che ringraziamo insieme al signor Pompa che è arbitrato ieri nelle fasi di qualificazione parte questa finale del dodicesimo memoria Lorenzo Sebastiani palla a Livorno alta alta per andare a portare pressione a cercare di recuperare ma ben schierato i giocatori del Rovigo che recuperano anche con un po' di fortuna la palla e pronti a rilanciare il gioco palla spostata ma grande pressione difensiva di Livorno abbiamo visto ieri Antonio contro il Colorno della difesa hanno fatto veramente la loro marca migliore Livornese sì sicuramente la loro cifra caratteristica la difesa è una difesa molto coriacea molto aggressiva toglie spazio va direttamente sull'uomo levando opzioni sia al portatore ma anche ai sostegni quindi è davvero difficile giocare contro una squadra che mette così tanta pressione infatti come si vede adesso Rovigo decide di andare al piede e non sfruttando decide di non sfruttare il vantaggio per un fuorigioco di Livorno e si ripartirà quindi da un calcio di punizione per Rovigo e verosimilmente secondo quanto abbiamo visto in questi giorni andrà in touch squadra organizzatissima vediamo se potrà più l'aggressività difensiva di Livorno la grande organizzazione e strutturazione di Rugby Rovigo che sembra una squadra già pronta per un campionato seniors davvero davvero complimenti a tutto lo staff tecnico rosso-blu ci ha molto molto impressionato in questi due giorni la squadra di Rovigo un nome tra l'altro di un rugby antico che a noi fa sempre piacere vedere all'Aquila sicuramente le battaglie a Centicolella ma anche a Tommaso Fattori tra l'Aquila e Rovigo sono storie hanno fatto parte della storia del rugby italiano e tutti quanti se le ricordano tanto è vero che anche tutti i ragazzi di Rovigo quando hanno saputo che sarebbero venuti all'Aquila erano molto emozionati perché i racconti si susseguono e si avvicendano ormai da anni una delle ultime grandi squadre di tradizione davvero una delle ultime grandi città di tradizione reggistica e ancora un calcio di punizione a favore di Rovigo che decide come abbiamo sempre visto in tutto il torneo di raccogliere punti e va per i pali anche su questo si vede una squadra molto quadrata molto consistente decide ogni volta che si affaccia nella metà campo avversaria di raccogliere punti di tornare cercare di tornare sempre con qualcosa nel suo zaino che siano tre punti che siano cinque punti che siano sette punti e questo è sintomo di una squadra molto organizzata di una squadra che sa quello che vuole che sa che ogni volta che deve entrare nella metà campo della squadra avversaria sa che deve far male e vediamo che stranamente Lorenzo Ferricato ieri molto preciso al piede non trasforma da facile posizione il numero undici del rugby Rovigo ripartenza del rugby Livorno e palla persa appena fuori dai 22 su un durissimo placcaggio rosso-blu si torna sul vantaggio concesso a Rovigo e veneti che rimangono stabilmente allora in attacco nella metà campo Livornese una mischia difficile Antonio da difendere campo spaccato in due l'otto che può ripartire a destra un gran parte di tre quarti che li schiereranno sicuramente a sinistra i ragazzi di Rovigo per cercare di mettere dubbi nella difesa Livornese che bello giocare questa situazione beh sicuramente è interessantissima questa situazione di gioco base d'attacco due fronti d'attacco e un Rovigo che ha le qualità per attaccare tutte e due ricordiamo anche che oggi sono presenti e anche ieri erano presenti tutto lo staff della nazionale under 18 under 19 under 20 quindi i ragazzi sono molto motivati a farsi vedere a far vedere le proprie qualità e questo regala al torneo un agonismo che è davvero poesia e vediamo contenuti tecnici importanti mischia stabile mediano di mischia del Rovigo e va sul lato aperto terza centro che riparte sul lato chiuso non essendoci il mediano avversario sovrannumera all'esterno e dentro i propri 22 con la tensione dell'attacco Livorno che aspetta 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 fa venire i giocatori di Rovigo li placca porta a terra e recupera la palla tanta tanta roba tanta qualità tanta tanta con tanti contenuti tecnici devo dire che giocare queste partite queste finali è sempre una grande tensione e soprattutto quando hai gli occhi di centinaia di persone se non migliaia di persone che sono qui ad assistere è un palcoscenico tanto importante i ragazzi devono abituarsi a questo pubblico al pubblico delle grandi occasioni perché qui si sta anticipando quelli che saranno le finali del prossimo anno e ancora difesa del Livorno sugli scudi lancio sbagliato fuori misura del Livorno sull'ultimo blocco pallone che finisce nelle mani di Rovigo ma poco poco si allontana il portatore veneto dal sostegno mettono le mani di Livornesi recuperano la palla e tornano a giocare nei 22 del Rovigo davvero complimenti ai ragazzi biancoverdi per l'attenzione l'approccio e le competenze specifiche nella loro difesa vediamo questo lancio è ancora una volta come giustamente dicevi Livorno fa della sua difesa la sua cifra caratteristica aspetta temporeggia non è mai fuori dal regolamento aspetta l'occasione giusta tenta il recupero recupera e si riporta in attacco davvero tanta qualità di questo peccato seconda tush persa però è questo anche determinante placcaggio alto intanto dell'arrembante difesa Livornese frutta un vantaggio il rugby Rovigo non è così sicuramente per cui ripartirà la squadra rosso-blu con un calcio di punizione a favore cercando di guadagnare campo attento l'arbitro Sironi soprattutto a placcaggi alti a situazioni che possono ledere l'incolumità dei giocatori in campo beh sicuramente sì abbiamo quest'anno una terna arbitrale di grandissimo spessore sono tutti arbitri che militano in top ten e seria stabilmente ormai da anni Domenico Sironi è anche arbitro internazionale è stato arbitro internazionale quindi sono arbitri che hanno tanta competenza che garantiscono tanto gioco non garantendo anche l'incolumità dei giocatori questa sarà una partita che si deciderà punto a punto sarà una partita molto corta in cui ogni errore farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta lancio per Rovigo e Tuscio vinta a due mani davvero ammirevole organizzazione dei ragazzi di rosso-blu pronti a rilanciare il gioco con gli avanti con il numero uno cifra di piloni Rovigotti noti e famosi nella storia ancora per quota i giocatori Rovigo li tengono in piena piedi livornesi è un aracno ha chiamato la Moll signor Sironi e si riparte ancora uno contro uno giocano in intervallo strettissimo 12 e 13 riescono a fare un pochettino di strada e ora piede su una profondità che vedono scoperta è molto buono il calcio porta pressione al limite del lato estremo del campo debbono mantenere sicurezza e possesso i giocatori del Livorno schierata loro estremo a zero e lungo 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 calcio con poco angolo ma con un bel guadagno territoriale si anche qui Livorno fatica a conservare la palla ma riesce si schiera subito a zero il loro numero 10 che veramente con pochissimo angolo riesce a dare ampio respiro ai propri compagni di squadra guadagnando circa 25 metri su un calcio davvero tanto difficile sotto pressione con una squadra che stava rientrando quindi davvero ancora il Livorno dimostra tutta la sua efficacia in ogni situazione del campo nonostante sia anche Rovigo molto intelligente nello sfruttare ecco una tuscia rubata bellissimo il loro numero 7 e niente a Livorno piace proprio la difesa anche da tuscia e forza un punto incontro i giocatori Rovigo il numero 4 che finisce dalla parte sbagliata della RAC calcio di punizione bello prima l'atteggiamento di questi ragazzi calcio di punizione per Rovigo e la loro 22 il compagno di squadra batte e la sua ala che parte come se stesse facendo sprint della vita per andare a portare pressione qualora quel calcio non dovesse uscire questo è l'atteggiamento corretto questo è l'atteggiamento giusto questo è l'atteggiamento di giocatori di rugby che sanno stare in mezzo al campo sanno che cosa significa una partita sanno giocare al rugby e conoscono l'importanza di poter partecipare e di poter giocare a questo fantastico sport è proprio l'emozione che volevamo lancio ancora per rugby Livorno con Tusch quasi completa non è andata bene finora continua ad avere difficoltà sulla conquista in qualche modo riesce però a recuperare la palla mettono le mani i giocatori al rugby Rovigo ma la palla esce ancora al lato livornese pressione mostruosa del Rovigo sui portatori di palla bianco verdi e provano ora ad aprire il pallone ma c'è la lettura del numero 12 Rovigotto e non riesce però a chiudere il placcaggio e offre ancora la possibilità a Livorno di attaccare ma non ci si muove dallo spazio di trincea tra i 10 metri e la metà campo battaglia vera calcio di punizione adesso è ancora mi sembra il numero 4 di Rovigo che cade dall'altra parte non va bene due calci di punizione in così poco tempo non vanno bene stesso giocatore tra l'altro non in piedi sulla rata assolutamente sì nonostante Rovigo abbia fatto una difesa feroce dalla Tush per il Livorno abbia attaccato abbia rubato campo su ogni palla aggredendo nel campo avversario i giocatori di Livorno lì serve disciplina lì serve costanza trovarsi con un giocatore che non cade dalla parte giusta che mette la squadra ancora una volta in difesa dopo aver preso l'abbrivio dopo aver comunque rubato campo agli avversari questo non va bene questo non va bene ai fini del risultato della partita ancora lancio sporco palla in mano al Rovigo è grande pressione della Rugby Livorno deve ripartire Rovigo dalla propria metà campo ma subito mettono le mani i giocatori del rugby Livorno e costringono ancora a farlo il Rovigo e sicuramente adesso decideranno di andare per i pali Antonio lo diciamo forte lo diciamo convinti la guerra è una merda ma non abbiamo altre parole altro lessico che quello della battaglia per descrivere quello che succede nel campo e lo utilizziamo allora per una battaglia che non provoca vittime ma sorrisi abbracci alla fine dello scontro davvero una battaglia colpo a colpo metro per metro tra le due squadre assolutamente sì l'unica battaglia che vogliamo sono queste sono le battaglie su un rettangolo verde dove davvero i giocatori sono alla pari dove davvero l'unico a muovere è la passione per questo sport l'unica cosa a muovere i giocatori è l'amore per questo sport per questo gioco per questo torneo e questo ne è la dimostrazione una battaglia che sta andando avanti ormai da undici minuti e mezzo e in cui tutte e due le squadre stanno dando stanno dando davvero tanto spettacolo mostrando tutta la loro qualità non fallisce la trasformazione Piero Celi che già ieri apertura di Livorno ci aveva fatto vedere belle cose sia nel gioco sia con i piedi una certa precisione e non fallisce una trasformazione non difficile non c'è stata tensione per lui in questo calcio si riparte sì assolutamente sì non ha subito pressione a differenza del numero 10 del Rovigo anche se il numero 10 del Rovigo calciava da una posizione molto più angolata molto più difficile e purtroppo è andato la palla si è infranta sul palo ma questa ripeto sarà una partita in cui i punti i piccoli punti faranno la differenza ogni volta che una persona con una squadra riuscirà ad entrare nella metà campo avversaria allora deve cercare di fare i punti deve cercare di raccogliere qualcosa da portare a casa Cacciava per Rovigo ti corrego il numero 11 ferricato Lala davvero giocatore abbiamo visto ieri interessante e completo e intanto il tentativo di forzare leggermente la mano all'azione ha portato un errore importante del rugby Rovigo e una mischia appena fuori dei 22 per il rugby Livorno anche questa è un'ottima base di attacco per il Livorno che si trova tutto il campo aperto ha tante opzioni ma vediamo che decide di scegliere la penetrazione in mezzo al campo spaccando ancora due il campo e cercando di prendere l'abbrivio con i propri tre quarti che ci riescono ci riescono guadagnano terreno e i sostegni sono subito lì ragazzi è un rugby bellissimo quanto è cresciuto anche Livorno rispetto alle prime partite di ieri lo dicevamo un pochettino per tutte le squadre ma ce ne sono alcune che veramente sono partite piano sarà stato anche il viaggio l'inizio le prime partite insieme e che adesso invece ci fanno vedere cose davvero importanti bravo anche il numero uno del Livorno e vede il sovrannumero esterno di Rovigo e cerca di non forzare ma di andare a ritrovare i sostegni e ancora prosegue l'azione del Rovigo ancora uno contro uno il numero 12 forza potentissimamente un forza una continuità diretta che non arriva al compagno numero 14 stanno giocando intervalli davvero stretti 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 e secondo calcio di punizione all'interno di 22 non ci pensa per niente Livorno a giocare no è una finale è una finale quindi come dicevamo prima ogni volta che ti affacci nella metà campo avversaria devi fare i punti devi portare con qualcosa ma è un Livorno che lo stiamo vedendo molto più sciolto che riesce a giocare con molta più fluidità rispetto a Rovigo è un Livorno che attacca l'uomo va sui principi avanza cerca gli spazi i sostegni sempre pronti e ogni palla ogni persona che prende la palla è sempre in avanzamento e questo sta facendo la differenza sia in attacco che in difesa lo spirito la voglia di mettere sotto l'avversario ieri abbiamo fatto tanti complimenti a Egio alla mischia di Rovigo davvero una mischia solida strutturata prima mischia sicuramente meno competente lo vedi anche dalle legature all'alto del Livorno ma che prende in carretta e porta via Rovigo e quella è la testa intanto trasforma il secondo calcio 2 su 2 per lui Pietro Celi e Livorno si porta avanti per 6 a 0 diciamo quanto vale la testa una grande mischia molto organizzata Livorno sulla prima seppure più larghi sulle legature prendono e si portano via gli avversari una bella come dire un bel messaggio assolutamente sì considerando anche che nel Rovigo ci sono giocatori che già militano nella nazionale under 18 ad esempio il loro pilone il numero 1 nonché capitano che su ogni mischia ha sempre fatto la differenza che su ogni palla ha sempre fatto la differenza sia in attacco che in difesa scontrarsi con una mischia del genere mettere in difficoltà una mischia del genere significa che come squadra tu sei veramente all'altezza e essere all'altezza mentalmente è fondamentale qualche parola di chiarimento tra l'arbitro Sironi e lo staff del Livorno e si riparte sulle ali e l'entusiasmo Rugby Livorno trova anche l'avanzamento ma mai 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 allontanarsi dai sostegni altrimenti accade questo calcio di punizione a favore del Rovigo che riesce a recuperare la palla Ricordiamo comunque che sono partite da 40 minuti quindi due tempi da 20 il tempo c'è il tempo per risalire il campo c'è c'è tutto il secondo tempo e questo secondo me farà la differenza saranno partite che si decideranno negli ultimi 10 minuti del secondo tempo e questo darà la caratteristica della squadra che riuscirà ad uscire a lungo a lungo termine su una finale del genere Lancio allora per le mani di Rovigo vediamo se proveranno a organizzare una molle e a mettere in difficoltà su questa fondamentale così è la squadra Livornese lo fanno ma si chiude davanti al portatore del pallone con troppo anticipo la molle del Rovigo spieghiamolo per tutti colui che salta in tush e che prende la palla deve comunque metterla in discussione non nasconderla immediatamente agli avversari una volta che va a contatto con gli avversari può portarla dietro e passarla ai compagni che hanno creato la molle in questo caso i suoi compagni sono andati a chiudere la possibilità di contendere il pallone a terra agli avversari e quindi l'arbitro ha correttamente fischiato un fallo a favore del Livorno senza la pressione difesa non emerge questo problema no assolutamente no con un Livorno che si riporta subito in attacco c'è un calcio proprio a 22 che riporta la squadra oltre 10 metri del Rovigo riportando la squadra in una condizione di attacco e quindi liberando e elevando pressione da ogni giocatore e questo significa che è davvero il contenuto tecnico davvero alto pochissime le tush complete che abbiamo visto in questi giorni lavorano molto spesso i ragazzi con 5 o con 6 uomini in tush ma mai una tush del tutto completa sempre un uomo fuori per provare a mettere dubbi alle difese buona lettura dei ragazzi di Rovigo non altrettanto la trasmissione che comunque riescono a portare la palla a largo e a creare il soprannumero il campo in sintetico crea forse qualche difficoltà i ragazzi riescono difficilmente a stare in piedi subito ben impostati Rovigo con 3 possibili ricevitori per ogni pallone il capitano del Rovigo si lamenta con l'arbitro che a suo dire ha messo perché a suo dire ci sarebbe stato un Mani a sigillare la palla dal punto di vista di Livorno non è dello stesso indirizzo l'arbitro Sironi che sanziona il terzo fallo consecutivo del numero 4 avevamo detto due falli di fila al terzo è andato fuori al terzo è andato fuori è un fallo sistematico e purtroppo il regolamento va rispettato a Rovigo serve disciplina serve costanza e serve ritrovare i principi di questo sport quindi avanzamento sostegno avanzamento sostegno continuare su questi due principi fino a quando non raggiungi l'obiettivo desiderato va rispettato e lo dicevamo anche con Giampiero Salvi ieri con gli arbitri va rispettato e compreso anche il metro di interpretazione che ogni singolo arbitro il metro il tempo anche relativo al ritmo che si ha davanti alle squadre che si hanno davanti ha di valutazione degli interventi in attacco in difesa sul punto di incontro giocare con l'arbitro è fondamentale capirne i tempi ci sembrava forse un giocatore di più schierato in Tush ma probabilmente potrei anche sbagliarmi da parte del Rovigo in difesa ma fa strada fa strada ancora la terza linea Livornese e trasforma immediatamente all'esterno rapidamente il gioco ci sembra che abbiamo ben messo le mani i giocatori del Rovigo e infatti evidenziano un tenuto a terra e un ritardo dei dei giocatori Livornesi a sostegno lo dicevamo con Hernandez questa mattina lui da buon responsabile d'ecco gli osservatori diceva i ragazzi non riescono a leggere con anticipazione quello che accade anche in questo caso la scelta dell'apertura erano probabilmente concordi sul giocare a largo l'apertura ha visto uno spazio attaccato e si è isolato perché il sostegno interno non è riuscito a leggere con un po' di anticipo quella capacità decisionale è rimasto isolato un mezzo secondo che è bastato il giocatore del Rovigo e mettere le mani sulla palla sì questo è uno sport in cui il timing è fondamentale il timing è quello che comanda tutto sia per i giocatori con la palla sia per i giocatori soprattutto per i giocatori senza palla quindi saper leggere in anticipo sapere dove si troverà l'avversario o la palla prima che questa succeda è la chiave per vincere è la chiave per diventare poi un giocatore dell'alto livello un giocatore che sceglie di partecipare a palcoscenici importanti buona la tuscia per il Rovigo non ha trattato la trasmissione 9-10 ma grande penetrazione il numero 12 che poi lavorando correttamente ma prolungatamente nel regolamento a terra è riuscito ad allontanare la palla dalla difesa livornese questo devono fare i giocatori del Rovigo ma meglio lavora il portatore a terra allontanando la palla dalla difesa e più riescono ad essere efficaci ferma il tempo l'arbitro per un infortunio corso al giocatore del Livorno e va a richiamare i giocatori di Rovigo che lamentavano Antonio ancora una decisione sul punto di incontro avevano detto all'arbitro probabilmente che il loro portatore era ginocchio a terra avrebbero voluto che il Livornese lasciasse la palla ma sono decisioni che si prendono in mezzo secondo difficili poi da sindacare e comunque non si parla con l'arbitro se non il capitano non si parla con l'arbitro come dicevi tu si gioca con l'arbitro come giustamente dicevi tu prima è tanta interpretazione il giocatore di Rovigo mette ginocchio a terra però l'arbitro è nella dinamica del gioco vede se l'avversario era già con le mani sulla palla se aveva già strappato la palla e quello fa tutta la differenza del mondo infatti sembrava il giocatore Rovigo tenesse alta la palla e che l'altro si fosse inginocchiato di peso ma insomma ci fidiamo all'arbitro Sironi proprio in virtù di quello che tu dicevi la grande competenza di questo signore che con un passato internazionale si mette a disposizione della crescita di ragazzi under 18 e di tutto il movimento degli arbitri e tuscia allora per il rugby Livorno che a tempo abbondantemente scaduto ha la possibilità di un ultimo assalto alla linea di difesa rodigina lancio per Livorno si mettono d'accordo sul da farsi primo blocco sicuro per i livornesi e Moll costituita creata che avanza 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 e fa strada nei 22 rosso blu Antonio hanno deciso di affrontare Livorno attenzione palla portata a largo se riesce a trasformare immediatamente il gioco Rovigo potrebbe far danni calcetto ancora interessantissimo dell'apertura livornese che mette crea qualche difficoltà a Livorno ma difficoltà risolta immediatamente dal loro numero 11 e via calcio intus e probabilmente è finito il primo tempo Antonio sintesi di questo primo tempo abbiamo visto una squadra quella di Livorno molto più sciolta molto più sfrontata e spacciata nel cercare il gioco una squadra in difesa molto aggressiva che toglie spazio che toglie il respiro agli avversari è una squadra che sa quello che vuole dall'altro lato abbiamo visto un Rovigo ancora un po' teso ancora con un gioco un po' troppo spezzettato che non mette i propri giocatori nella condizione di far davvero male poche volte si sono affacciati nel 22 del Rovigo del Livorno e una volta con un palo e dopo niente più solo falli che lo riportavano indietro di 20 30 50 metri Livorno ha giocato alla distruzione del competente e costruito gioco del Rovigo li ha messi in difficoltà sulle loro molle li ha messi in difficoltà sulla loro struttura di gioco li ha attaccati adesso sul loro punto forte cioè tu sul primo blocco e molle avanzante insomma gli stanno mettendo dubbi su tutto di quello che avevano di certo peraltro quello di cui si parlava appunto anche ieri confrontandoci con i tecnici era proprio questo cioè il fatto che squadre come Rovigo o Benetton lo scorso l'anno passato la passata edizione del torneo sono squadre che sono abituate a giocare in Veneto con un contenuto tecnico con un livello tecnico un po' più elevato rispetto al centro rispetto al centro sud ma non con la stessa cattiveria non con la stessa passatemi il termine ignoranza e arroganza di tutte le squadre che militano i campionati del centro sud e trovarsi di fronte a una squadra che non ti lascia giocare che ti toglie spazio che ti toglie aria che ti toglie palloni è difficile è difficile soprattutto perché le tue strutture sono formate e sono pensate per un rugby diverso ma è questo quello che vogliamo è questo il rugby è questo un torneo in cui dare la possibilità ai ragazzi di non confrontarsi sempre tra loro ma di vedere nuove realtà di vedere nuovi giocatori di fare squadra di capire un nuovo tasso di rugby di nuovo di un nuovo livello tecnico di un rugby è questo quello che sta succedendo adesso ora quello che dobbiamo capire è se Livorno continuerà riuscirà a mantenere questa questa strategia o se il Rovigo riuscirà a trovare le contromisure giuste per far per cominciare a far male a Livorno vero quello che vedevamo e appunto ci dicevamo anche ieri c'è un Rovigo davvero già molto molto squadra anche perché come dici tu è abituato a giocare un campionato di grande competizione un approccio ancora più sul gioco sulla rapidità sul volume delle squadre del Centro Italia è proprio questo interessante questa commistione di stili pure se vogliamo da cui poi dovrebbe uscire il meglio del rugby italiano della nazionale italiana sono quelle caratteristiche dei vari giocatori ma anche delle società che educano i giocatori e che formano i giocatori e che portano come dire nel DNA dei ragazzi quello che loro fanno naturalmente ecco questo è anche nella diversità in tutta la diversità sta sempre un valore aggiunto si ricomincia ancora sfida al piede tra le due squadre a cui nessuno dei due si sottrae riparte con le mani il numero 14 del rugby Livorno ma vicinissimi i sostegni ma ingresso laterale per Livorno lo avevamo letto ancora prima che accadesse riparti contro quattro giocatori da solo con i sostegni un po' lontani ci sono arrivati ma sono arrivati perché entravano laterale questo sport in alcune situazioni ha poco 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 davvero da lasciare all'immaginazione subito per i panni intanto rovino si è uno sport molto spiedato in cui la strategia e la tattica fanno assolutamente la differenza lì era una battaglia di calci si stava cercando territorio si doveva continuare a cercare territorio è una battaglia che sarebbe finita non di certo con un calcio di munizione davanti ai pali da poter sfruttare da potersi portare a meno tre ancora una volta Rovigo sceglie i pali vediamo se riuscirà ancora Ferrigato ad accorciare le distanze bene indirizzato il calcio e centra i pali sei a tre per il rugby Livorno quando siamo quasi al secondo minuto di questa finale del dodicesimo trofeo Lorenzo Sebastiani i primi tre punti con il punteggio che vede Livorno in vantaggio di sei a tre ancora un forte applauso a questi ragazzi dai calcio d'invio ancora per i piedi della giovane apertura del rugby Livorno palla contesa in area direttamente sull'uomo secondo il signor Sironi la difesa del no del Livorno sembrava averse alzato il braccio dalla parte del Livorno non era così ci scusiamo con i telespettatori che ci seguono c'è invece un tenuto a terra da parte del rugby Livorno e si ripartirà con un calcio di posizione a favore di Rovigo palla calciata con un buon guadagno da Riccardo Camellini della rugby Rovigo e il lancio sarà per le mani del tallonatore rosso-blu lancio per il tallonatore del rugby Rovigo ancora una tush ridotta scelta dai rosso-blu è buona questa volta la molla si organizza bene la molla del Rovigo e fa strada prende subito 10 metri velocissimamente continua si riorganizza la parte chiusa continua l'avanzamento continua l'avanzamento ancora non si ferma corretta la posizione nel numero 6 della rugby Livorno vediamo se segnala il direttore di Carlo che fa lo no tutto regolare giocano 1-2 con il numero 12 del rugby Rovigo i giocatori rosso-blu c'è possibilità di trasmettere la palla a largo peccato 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 per una trasmissione non corretta che regala il pallone al rugby Livorno una meta sfumata per la rugby Rovigo aveva davvero fatto una devastante penetrazione con la molla e poi con il suo numero 12 e si riparte invece allora con una mischia a favore del rugby Livorno vediamo questa seconda mischia e gli equilibri che si saranno ridefiniti tra i vari giocatori in campo e il reset della mischia chiusa comincia a diventare importante cominciò a diventare importante questo frangente già in under 18 chiama i tempi il signor Sironi è buona l'ingaggio va giù il pilone destro del il pilone sinistro perdonateci del Livorno e calcio di posizione diretto quindi per Rovigo che davanti a Pali può andare direttamente per il calcio del pareggio e adesso è una partita che si fa tanto interessante è un Rovigo che ritrova il bandolo della matassa è un Rovigo che si riporta in attacco pareggia la situazione pareggia la partita e adesso si riparte 0 a 0 con altre 15 minuti 14 minuti che promettono davvero di dare battaglia e onore ad una finale di un torneo di questo livello tecnico trasforma il calcio di posizione Rovigo 6 a 6 in questa vincente finale parità al sesto minuto del secondo tempo Antonio diciamo per tutti coloro che ci seguono cosa accade se finisce in parità la partita se la partita finisce in parità verrà disputato un tempo extra time di 10 minuti con la regola del golden meta quindi la squadra che segna per primo si aggiudica il trofeo in caso di ulteriori parità verrà effettuata una sessione di calci piazzati che andrà avanti ad oltranza fino a quando una delle due squadre non sbaglierà è spietato? sì è un torneo? sì è bello? sì sono ragazzi sono giovani sono qui non tanto per il risultato quanto per divertirsi giocare e confrontarsi sbaglia intanto di misura il numero 10 del rovico il calcio di liberazione con la palla che esce direttamente fuori dal campo si ripartirà quindi con una tush a favore del rugby Livorno all'altezza dei 22 del rovico lancio in tush per Livorno altissimo il numero 5 del Livorno Moll incredibilmente organizzata che parte ottimo abbrivio fa qualche metro ma ben difende ben si rimposta Rovico per cercare di bloccare l'avanzamento dei livornesi si stacca il giocatore Livorno continuità prova una continuità di atta che non riesce ma in qualche modo arriva il giocatore di Livorno all'altezza dei 5 metà della linea di meta del rovico affrontano i pari età palla numero 20 del Livorno preso e portato a casa dalla riflessa del rovico che comincia ad imporre la sua fisicità ci sembra in questo secondo tempo placcaggio raddoppiato triplicato e stanno tornando indietro i giocatori del Livorno provano ancora uno contro uno fa strada fanno strada adesso davanti del Livorno si riportano in attacco fintano in chiusa provano ad attaccare a largo taglio all'interno all'esterno attenzione a non isolarsi succede così al numero 13 del Livorno ma c'è un calcio di punizione per fuori gioco segnalato dai guardaline e quindi possibilità ancora per il Livorno di riportarsi in vantaggio vedremo quale sarà la decisione il calcio è abbastanza angolato Tusch per il Livorno che vuole chiudere la partita e per Antonio in base a quanto abbiamo visto per ora con la molla potrebbero farlo organizzazione immediata la palla porta a terra e spinta veramente veloce del Livorno dovranno stare attenti i giocatori a Rovigo beh sì il Livorno ha dimostrato che nel gioco in mall è davvero molto organizzata d'altro canto però si trova di fronte una squadra come il Rovigo che ha fatto della sua mischia e continua a fare del suo pacchetto di avanti la sua cifra caratteristica siamo a 5 metri è una base d'attacco ottima per il Livorno Rovigo dovrà difendere con le unghie e con i denti la propria area di meta vediamo che imposta la molla il Livorno continua a spingere sono organizzati stanno andando ma non arrivano a schiacciare sono a pochi centimetri dalla meta continua un pick and go e continua la base d'attacco il Livorno difesa incredibile del Rovigo uno contro uno che cerca di rispingere i giocatori livornesi da loro parte e li porta all'errore passaggio in avanti sull'ultima raccolta segnalato anche dal guardaline Giurina e pericolo davvero scampato del Livorno una meta in questo momento sarebbe stato davvero davvero determinante per gli essi della partita e vediamo che cosa succede intanto Antonio in questa mischia una prima mischia che ha visto un ingaggio sicuramente forse un pochettino anticipato del Livorno che ha portato pressione una seconda mischia che invece ha premiato il Rovigo vediamo adesso cosa succederà non ingaggia il destro livornese rimane alto ricordiamo non può farlo bisogna seguire gli ordini del direttore di gara buono l'ingaggio del Rovigo va a terra il pilone destro del Livorno e esce benissimo non poteva andare meglio il Rovigo in questa situazione palla difficilissima recuperata mischia vinta esce con calcio sì sicuramente è una palla che scotta e Livorno ha avuto una grande opportunità di portarsi ancora una volta in vantaggio con una base d'attacco davvero invidiabile ma è un Rovigo coriaceo è un Rovigo che non molla che sta lì che aspetta che temporeggia fino a quando non vede gli avversari commettere proprio l'errore decisivo e allora continua ad attaccare il Livorno sembra stia uscendo un pochettino alla distanza la fisicità del rugby Rovigo vediamo però intanto questo lancio in tush tra i due blocchi di difesa salta il saltatore del Rovigo e guadagna un'ottima tush che può riportare nella propria metà campo il giocatore del rugby Rovigo incrociano intelligentissimo calcio il numero 20 del Livorno ma è ben coperto la coperta la profondità da Rovigo e ancora correttamente ortodossamente il calcio nel senso forse un po' troppo lungo rotola 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 non si ferma il pallone e si ricomincerà quindi con una mischia in attacco per il Rovigo che vince la battaglia strategica al piede sì è quello che dicevamo prima quello che il Livorno non ha fatto nel primo tempo è una gara di calci è una gara di vantaggio territoriale il Livorno sbaglia in tutte e due le occasioni la prima volta scegliendo di non calciare la seconda volta scegliendo un calcio troppo lungo questa diventa una base di attacco per il Rovigo che si trova con tutto il campo aperto e con mille opzioni da poter scegliere per i propri attaccanti era buona intuizione del numero 20 di Livorno perché calciava dal box da cui proveniva il calcio di Rovigo e doveva quindi essere coperto da altri peccato che è andato un pochettino troppo lungo rimbalzato male diciamo così ma è proprio nei dettagli ormai che si fa la differenza tempo fermo intanto una piccola pausa water break per quanto non sia caldissimo insomma il ritmo anche fisicamente si fa sentire rettifica su indicazione del giudice di linea Luca Giurina il punto del calcio dell'apertura del rugby Livorno il signor Sironi e la piattaforma che diventa ancora più interessante per il rugby Rovigo no c'è indecisione tra i due segnaline non si sono messi d'accordo uno di qua alla fine Sironi si è messo in mezzo più o meno assolutamente per non far torto a nessuno introduzione per il mediano di mischia di Rovigo vediamo la mischia adesso come si come troverà equilibrio l'ingresso buono per i ripornesi Mattia e Rovigo ripartenza del terzo centro riesce a fare la differenza a largo Rovigo battuto un avversario un secondo avversario eccoli già dentro i 22 metri sostegni pronti e vicini palla messa a disposizione del mediano ancora il numero uno del Rovigo che per quote la difesa bianco verde la seconda linea espulsa ricordiamolo temporaneamente prova a fare la differenza e adesso ci sarebbe per un calcettino eccolo qua arriva dal numero 10 del Rovigo che porta in meta il Lala del rugby Rovigo che avevamo visto gran bel giocatore in questi due giorni calciatore anche della squadra di Rovigo ancora Lorenzo Ferrigato che almeno dalla lista gara che noi abbiamo dovrebbe essere il marcatore della meta che si appresta a trasformarla nonché di tutti i punti del Rovigo se vince Rovigo dicesi man of the match chiaramente ovviamente benissimo l'avevamo chiamato difesa piatta nessuna copertura su L2 c'era il calcetto e l'apertura del Rovigo l'ha letta esattamente come noi alla tribuna lui l'ha letta dal campo il che è molto più difficile assolutamente sì anche se comunque avevano il vantaggio quindi si può usare si può tentare qualcosa di più si può cercare delle soluzioni non convenzionali e non sbaglia la giovane Ala di Rovigo arrotondando 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 il risultato e portando il risultato sul punteggio di 13 a 6 per il rugby Rovigo Antonio partita che cambia strategicamente perché adesso è Livorno a dover fare la gara adesso è Livorno che rincorre ma l'avevamo detto è una partita che si decide punto a punto e che si decide alla lunga quindi nel secondo tempo negli ultimi 10 minuti del secondo tempo siamo entrati negli ultimi quasi negli ultimi 5 minuti della partita è un Rovigo che sembra più fresco che sembra più atletico che sembra più lucido e che riesce a sfruttare situazioni da ogni parte del campo quando decidono come adesso di uscire palla in mano exit strategy non usiamo il piede siamo confidenti andiamo con le mani usciamo dicevamo da un po' sta uscendo la fisicità del Rovigo è la grande preparazione dei ragazzi rosso-blu adesso hanno provato ad attaccare direttamente è una continuità si può rischiare come dicevi tu qualcosina in più dato il risultato ma bisogna rimanere settati per questi ultimi 5-4 minuti di gioco buone le mischie a terra mette pressione Rovigo incrocia la mischia l'arbitro sanziona il sinistro ci sembra del rugby Rovigo il numero 9 il numero 9 del Rovigo va in fuorigioco la palla è ancora dentro va a prendere il mediano di mischi avversario senza palla e deve aspettare deve aspettare dietro i piedi della terza ala non può salire e Sironi è lì se ne accorge e sanziona giustamente il fallo ero rimasto sulla mischia stavo guardando i problemi che avevano incrociato un po' tutte e due infatti non mi spiegavo perché uscisse il fallo grazie Antonio io assolutamente ma solamente perché sono stato un numero 9 un mediano di mischia quindi mi rendo conto di questo ognuno guarda il suo assolutamente ottima ancora Tush altissima la seconda linea di Livorno è ancora buona la molla ancora avanzante si ferma in questo momento si ricostituisce e attacca di nuovo a lato ma è tutto regolare per il signor Sironi palla a Livorno che può provare a spostarla a largo ma tanta mostruosa la pressione adesso dei Rosso Blu fuori gioco di linea di Rovigo e vediamo cosa sceglieranno di fare adesso i ragazzi del Livorno mancano comunque tre minuti alla fine decidono di andare subito per la segnatura pesante si mancano tre minuti Livorno deve reagire sceglie la Tush è una scelta coraggiosa perché se diversamente non riuscirà a portare a casa un bottino importante o comunque anche un tre punti da questa da questa da questa azione si ritroverà comunque a dover ancora rincorrere e con sempre meno tempo a disposizione quindi lancio in Tush buona molle organizzata da Livorno che aspetta per organizzarsi inizia 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 a spingere si stacca forse un po' troppo presto dalla molle giocatore del Livorno e così è costringendo i suoi compagni ad un siling off sanzionato dall'arbitro che assegna anche dieci metri contro il Livorno per proteste di giocatori in maglia bianco si è un Rovigo come dicevamo prima lucido paziente aspetta l'errore aspetta che l'avversario commetta commetta lo sbaglio e ne approfitta è un Livorno nervoso è un Livorno che si innervosisce parla con l'arbitro e riceve un'ulteriore sanzione di dieci metri è una finale bisogna stare calmi bisogna stare concentrati sull'obiettivo della partita e cercare di raggiungerlo a tutti i costi prova ancora coraggiosamente Livorno al diciannovesimo minuto non si è pervinto di ma è una finale chi lo farebbe di ribaltare di riacciuffare andare a provare a pareggiare il risultato il gioco chiaramente diventa più disordinato si gioca sotto la panchina di Rovigo e è chiaro vola qualche parola anche da fuori comincia c'è un po' d'agitazione anche tra i ragazzi un po' di sconforto vediamo tra le fila del rugby Livorno ma lo dicevamo questa mattina Livorno è sempre stata una squadra dura forta coriacea non ci stanno mai a perdere nessuno ci sta ma sono davvero sempre duri 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 non ci stanno mai alla sconfitta sì il Livorno è famosissimo per questo io personalmente ci ho giocato due finali contro fortunatamente tutte e due vinte ma è una squadra che non si dà mai per vinta che prova fino alla fine a ribaltare il risultato è sempre protagonista anche Livorno negli ultimi anni delle finali dei campionati giovanili dove giovanili intendiamo il trofeo di categoria prima under 15 under 17 under 19 degli anni passati nel frattempo diciamo che siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio di questa finale che al termine decrederà chi si aggiudicherà il dodicesimo Memorial Lorenzo Sebastiani e ultimo tentativo forse d'attacco per rugby Livorno senti partita vera Antonio non abbiamo mai neanche visto una frattura profonda della linea cioè difese davvero sempre ben schierate sì assolutamente non c'è stato un break non c'è stato nessuno che ha rotto un placcaggio e è andato oltre scavando delle difese una difesa profonda e sono sono squadri che sono sempre stati lì hanno organizzato le loro difese non hanno sbagliato nessun nessun placcaggio e questo è sintomo di quanto alto sia questo livello ancora ingaggio tempo rosso tempo finito incrocia bene il numero uno del rugby Livorno e mette in difficoltà la mischia del rugby Rio Rovico perdonate mette in difficoltà la mischia del Livorno ma palla che riesce ad uscire punto di incontro rallentato vorrebbero sanzione per un placatore del rugby Rovico che non rotola i ragazzi bianco verdi ma così non è secondo l'arbitro Sironi ancora grande pressione e palla trasmissione sbagliata per rugby Livorno che va davvero sotto pressione facile difendere adesso perché Livorno non può che risalire il campo con le mani qualsiasi altra opportunità sarebbe 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 la palla Livorno così è stato Livorno Rovico che calcia in tush e si porta a casa questo dodicesimo Memorial Lorenzo Sebastiani Antonio al rugby vince sempre la squadra più forte sì assolutamente sì è un Rovico che abbiamo detto è partito piano è partito teso è partito nervoso ma poi hanno trovato il bandolo della madassa sono riusciti a riportare pressione sono riusciti a ritrovare il loro gioco si sono appoggiati sulle loro certezze e hanno portato a casa un risultato bellissimo di un'edizione del Memorial straordinaria se ci fosse però un premio per il coraggio lo vincerebbe Rugby Livorno adesso le premiazioni per tutte le squadre noi facciamo qualche minuto di pausa in attesa delle premiazioni grazie Grazie. 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 Ed eccoci giunti al termine della dodicesima edizione del Memorial Lorenzo Sebastiani. Abbiamo visto un rugby di altissimo livello e ringraziamo ancora tutti i giocatori che hanno partecipato e hanno dimostrato di dare grande battaglia, tanta voglia di iniziare questi campionati alle porte. Come vi ho detto più volte durante l'evento, uno dei obiettivi, una delle missioni dell'associazione è quella di promuovere i valori sociali e lo facciamo attraverso donazioni cambiate anche durante il corso degli anni. Quest'anno per la prima volta devolveremo in beneficenza delle borse di studio e iniziamo nel consegnare un assegno per 10 borse di studio finalizzate a sostenere un'intera stagione sportiva di qualsiasi sport per ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie. La consegniamo all'associazione Luca Moro contribuendo a un nobile gesto che da anni portano avanti. Riceve l'assegno Tommaso Moro, il figlio di Luca Moro accompagnato dall'ossio. Invitiamo adesso la professoressa Paola Di Salvatore. a ricevere un assegno del valore di 1000 euro alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi dell'Aquila, finalizzato al conseguimento di una tesi di laurea dal tema il rugby e la disabilità. vorrei che vi facesse un applauso a tutti voi partecipanti perché non è altro che il ricavato di tutto il cibo, le bevande, i gadget che avete acquistato e quindi non è l'associazione ma siamo tutti qui presenti che partecipiamo a questi gesti bellissimi. grazie veramente. E adesso, all'ottavo posto del memoria di Lorenzo Sebastiani, la polisportiva all'Aquila Rugby. consegna la targa di partecipazione Maurizio Zaffiri, coordinatore del progetto di formazione giovanile della Federazione Italiana Rugby. Settima classificata, Rugby Lazio. consegna la targa di partecipazione German Hernandez, responsabile dell'alto livello giovanile della Federazione Italiana Rugby. e al quinto posto Rugby experience, consegna la targa Antonio Colella, tecnico del Comitato Regionale Abruzzo. grazie a tutti. grazie a tutti. ho sbagliato l'ordine però ho detto che sono arrivati i punti. invece al sesto posto, le fiamme oro, consegna la targa a Francesco Schier, tecnico e formatore del Comitato Regionale Abruzzo. ed è Andrea Brancoli, responsabile del centro di formazione di Roma, a consegnare la targa a Colorno Rugby. quarta classificata. e ora ed ora il boccale intitolato Umeio, premio Fair Play ad Alessandro Martelli della polisportiva L'Aquila Rugby, consegna il boccale Luigi Cerroni, responsabile del Museo del Rugby. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E da Giorgio Morelli, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Rugby, a consegnare alla seconda classificata Rugby di Livorno, la targa di partecipazione. Quest'anno siamo onorati di avere per il primo anno la presenza del Presidente della Nazionale della Federazione Italiana Rugby, Marcio Innocenti, e consegna il premio per il miglior giocatore a Pietro Celi del Livorno Rugby. Per chi non lo sapesse, Ciccio, per noi tutti amici, Lorenzo Sebastiani, era un ragazzo come tutti voi ed era un pilone della Nazionale Italiana Giovanile. Ed è per questo che dalla prima edizione abbiamo istituito il premio al miglior pilone. Quest'anno è stato individuato il miglior pilone del memoria da Lorenzo Sebastiani, Nicola Bolognini e Nicola Bolognini, Nicola Bolognini, con segna il premio al Presidente dell'Associazione Amici di Lorenzo, il fratello Amelico Sebastiani. Ancora un grande applauso a tutte le persone, a tutti i giocatori. e ci siamo, siamo arrivati alla fine. Vincono la dodicesima edizione del Memorial, Lorenzo Sebastiani, il Romico Requi, consegnano il premio insieme il Presidente Marcio Innocenti e il Presidente Amelico Sebastiani. Un forte applauso! Grazie veramente di cuore a tutti quanti per chiunque volesse fermarsi la festa continua ancora per qualche ora sotto i tendoni. Grazie ancora e ci vediamo l'anno prossimo!